Primo Cronache, Capitolo Primo I dieci patriarchi d'Adamo a Noè, i figlioli di Noè e i loro discendenti. Adamo, Seth, Enosh, Kenan, Ma'alalil, Gerad, Enoch, Methuselach, Lamech, Noè, Sem, Cam, Japheth, I figlioli di Japheth, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek, Etiras, I figlioli di Gomer, Ashkenaz, Rifat, Togarma, I figlioli di Javan, Elisha, Tarsis, Kitim, Erodanim, I figlioli di Cam, Cush, Mitraim, Put, Ekanam, I figlioli di Cush, Seba, Avila, Septa, Ramma, Septaca, I figlioli di Ramma, Seba, Ededam, Cush generò Nimrod, che cominciò ad esser potente sulla terra. Misraim generò Iludim, Ilanamim, Ileabim, Ineftuhim, Ipetrisim, Icalushim, onde uscirono i filistei, e Icaftorim. Canaan generò Sidon suo primogenito, e Heth, e Igebusei, li Amorei, e Gilgasei, li Ivei, li Arkei, i Sinei, li Arvadei, i Tsemarei, li Amatei. I figlioli di Sam, Elam, Ushur, Arpashad, Lud, Eram, Hus, Ul, Geter, e Meeshek. Arpashad generò Shela, e Shela generò Eber, ed Eber nacquero due figlioli. Il nome di uno fu Peleg, perché ai suoi giorni la terra fu spartita, e il nome del suo fratello fu Joktam. Joktam generò Almodar, Shelef, Atzar Mavvet, Gera, Adoram, Uzal, Dikla, Ebal, Abimahel, Sheba, Ophir, Avila, e Iobat. Tutti questi furono i figlioli di Jotam. Sem, Alpashad, Shela, Eber, Peleg, Reut, Serub, Naur, Terra, Abramo, che è Abramo, e figlioli di Abramo, Isacco e Ismaele. Questi sono i loro discendenti. Il primo genito di Ismaele fu Neboit, poi Kedar, Adbil, Mipsam, Mishma, Duma, Massa, Adad, Tema, Jetur, Nafish, Kedma. Questi furono i figlioli di Ismaele. I figlioli di Ketura, concubina d'Abramo, essa partorì Zimram, Jorsham, Medam, Madiam, Mishbak, e Shuhak, figlioli di Joksham, Sheba, ed Edam, i figlioli di Madiam, Efa, Efer, Hanok, Abida, ed Eldahad. Tutti questi furono i figlioli di Ketura. Abramo generò Isacco. I figlioli di Isacco. Izaú ed Israele. I figlioli di Ziaú, Eliphaz, Reuhel, Yehush, Ilam, Korat. I figlioli di Eliphaz, Tema, Omar, Tsefi, Gadam, Kenas, Tima, ed Amalek. I figlioli di Reuhel, Natam, Zerak, Shemak, Mitzah. I figlioli di Seir, Lotan, Shobal, Sibéon, Ana, Dishon, Etzer, Disham. I figlioli di Lotham, Hori e Oman, la sorella di Lotham fu Timna. I figlioli di Shobal, Alia, Manatan, Eba, Shefi e Oman. I figlioli di Zibéon, Hain e Ana. I figlioli di Ana, Disham. I figlioli di Disham, Amram, Espan, Yeram, Keram. I figlioli di Etzer, Bilna, Tzarnam, Yakam. I figlioli di Dishon, Utz e Aram. Questi sono i re che regnarono nel paese di Edom prima che alcun re regnasse su figlioli di Israele. Bela, figliolo di Beor, e il nome della sua città fu Dinhaba. Bela morì e Jobab, figliolo di Zerak di Bozra, regnò in luogo suo. Jobab morì e Utsham, nel paese dei Teminiti, regnò in luogo suo. Ushman morì ed Edad, figliolo di Bedad, che sconfisse i Madianiti nei campi di Moab, regnò in luogo suo. E il nome della sua città era Avith. Kadad morì a Samla e Mesraka regnò in luogo suo. Samla morì e Saul di Reobot sul fiume regnò in luogo suo. Saul morì e Baal Anan, figliolo di Achbor, regnò in luogo suo. Baal Anan morì ed Edad regnò in luogo suo. Il nome della sua città fu Pai e il nome della sua moglie Metabel, figliola di Metred, figliola di Mezabab. E Adad morì e i capi di Edom furono il capo Timna, il capo Alva, il capo Yeteth, il capo Ohilibama, il capo Ela, il capo Pinon, il capo Kenaz, il capo Teman, il capo Mipzar, il capo Magdiel, il capo Ieram. Questi sono i capi di Edom. Primo libro delle cronache, secondo capitolo Questi sono i figlioli di Israele, Ruben, Simone, Levi, Giuda, Issachar e Zebulon, Dan, Giuseppe, Beniamino, Neftali, Gad e Nasher. I figlioli di Giuda, Er, Onan e Shela. Questi tre gli nacquero dalla figliola di Shua la Cananea. Er, primogenito di Giuda, era perverso agli occhi dell'Eterno, e l'Eterno lo fece morire. Tamar, nuora di Giuda, gli partorì Peretz e Zerach, totale dei figlioli di Giuda, cinque. I figlioli di Peretz, Etstrom, Hamul. Figlioli di Zerach, Zimri, Etam, Erman, Calcol e Dara, in tutto cinque. I figlioli di Carmi, Akan, che conturbò Israele quando commise un'infedeltà riguardo all'interdetto. Figlioli di Etan, Azaria. Figlioli che nacquero a Etstrom. Jaram, Mehel, Ram e Kelubai. Ram generò Amnidabab. Amnidabab generò Hanshor, principe dei figlioli di Giuda. E Nashon generò Salma, e Salma generò Boaz. Boaz generò Obed, Obed generò Isai, Isai generò Eliab, suo primo genito, Elinadab il secondo, Shimea il terzo, Natanahel il quarto, Ridai il quinto, Ozzem il sesto, Davide il settimo. Le loro sorelle erano Zeruia ed Abigail, figliolo di Zeruia, Abishai, Joab e Asahel, tre. Abigail partorì Amasa, il cui padre fu Jeter, l'Ismaelita. Caleb, figliolo di Etstrom, ebbe dei figlioli da Azuba, sua moglie, e da Gerioth. Questi sono i figlioli che ebbe da Azuba. Gesher, Shobab e Ardum. Azuba morì, e Caleb sposò Efrat, che gli partorì Hur. Hur generò Uri, e Uri generò Betzelil. Poi Etstrom prese la figliola di Makir, padre di Galahad. Egli aveva sessant'anni quando la sposò, ed essa gli partorì Segub. Segub generò Jair, ed ebbe ventitré città nel paese di Galahad. I Geshuriti e i Siri presero loro le borgate di Jair, Kenat e i villaggi che ne dipendevano, sessanta città. Tutti i cotesti erano figlioli di Makir, padre di Galahad. Dopo la morte di Etstrom avvenuta a Caleb e Frata, a Bihat, moglie di Etstrom, gli partorì a Shur, padre di Tekoa. I figlioli di Geramiel, primogenito di Etstrom, furono Ram, il primogenito, Buna, Oren e Ozzem, nati da Ahija. Geramiel ebbe un'altra moglie di nome Atara, che fu madre di Oman. I figlioli di Ram, primogenito di Geramiel, furono Maaz, Jamin e Eker. I figlioli di Oman furono Shammai e Jada. I figlioli di Shammai, Nadab e Abishur. La moglie di Abishur si chiamava Abihayo, che gli partorì Haban e Molid. I figlioli di Nadab, Selet ed Appaim, Selet morì senza figlioli. I figlioli di Shemai, 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 fratello di Shemai, Jeter e Jonathan. Jenet morì senza figlioli. I figlioli di Jonathan, Pelet e Zaza. Questi sono i figlioli di Geramiel. Shesha non ebbe figlioli, ma sì, delle figlie. Shesha aveva uno schiavo egiziano per nome Jara, e Shesha diede la sua figliola per moglie Jara, suo schiavo, ed essa gli partorì Atai. Atai generò Nathan, Nathan generò Zabab, Zabal generò Efial, Efial generò Obed. Obed generò Jehu, Jehu generò Aziria, Azaria generò Eletz, Eletz generò Elasa, ed Elasa generò Sismai, Sismai generò Shalum, Shalum generò Gekamia, e Gekamia generò Elishama. Il figlioli di Calè, fratello di Geramiel, Mesha, suo primogenito, che fu padre di Zif, e il figlioli di Maresha, che fu padre di Ebron. I figlioli di Ebron, Kora, Tapu, Rekem, e Shema. Shema generò Ramam, padre di Jorkahem, Rekem generò Shalumai, e il figliolo di Shalumai fu Maom, e Maom fu il padre di Bet, Sur. Efa, concubina di Calè, partori Oram, Mozza, Gares, Aram generò Gazèz, i figlioli di Jaidai, Regen, Jotan, Geshman, Pelet, Efa, e Shaf. Ma Acca, concubina di Calè, partori Sheb e Tirana. Partori anche Shaaf, padre di Madmanna, Sheba, padre di Macbena, e padre di Gibea. La figliola di Calè era Aksa. Questi furono i figlioli di Calèb. Benol, primo genito di Efrata, Shorbal, padre di Kiriat Gerim, Salma, padre di Bethlehem, Jeref, padre di Ben-Gader, Shobal, padre di Kiriat Gerim, ebbe per discendenti Aroe e la metà di Menuhot. Le famiglie di Kiriat Gerim furono gli Irrei, i Petuei, gli Shemutei, i Mistraei, dalle quali famiglie derivarono gli Zorattiti e gli Estaoliti, i figlioli di Salma, Bethlehem e Netofacci. A Trobbed Joab, la metà dei Manatei, gli Zoriti. Le famiglie di Scribi che abitavano a Jabetz, i Tiritei e gli Shematei, i Sukahetei, questi sono i Kennei discesi di Amat, padre della casa di Reqab. Primo Cronache, capitolo terzo Questi furono i figlioli di Davide che gli nacquero a Hebron. Il primo genito fu Amnon di Ahinoam la Zraelita, il secondo fu Daniel da Abigail la Carmelita, il terzo fu Absalom figliolo di Mahacca, figliola di Talmai re di Geshur, il quarto fu Adonisia figliolo di Agit, il quinto fu Scefatia di Abitel, il sesto fu Gitream di Egla, sua moglie. Questi, sei figlioli, gli nacquero a Ebron. Qui vi regnò sette anni e sei mesi, e in Gerusalemme regnò trentatré anni. E questi furono i figlioli che gli nacquero a Gerusalemme, Shimea, Shobab, Natan, Salomone. Quattro figlioli, natali da Bet-Shua, figliolo di Amiel, poi Jibar, Elisciama, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafia, Elisciama, Eliada ed Elifelet, cioè nove figlioli. Tutti questi furono i figlioli di Davide senza contare i figlioli delle sue concubine, e Tamar era loro sorella. I figlioli di Salomone Roboamo che ebbe per figliolo Abija, che ebbe per figliolo Asa, che ebbe per figliolo Josafat, che ebbe per figliolo Joram, che ebbe per figliolo Acazia, che ebbe per figliolo Joas, che ebbe per figliolo Amazia, che ebbe per figliolo Azaria, che ebbe per figliolo Jotam, che ebbe per figliolo Akaz, che ebbe per figliolo Ezechia, che ebbe per figliolo Menasse, che ebbe per figliolo Amon che ebbe per figliolo Giosia. I figlioli di Giosia. I figlioli di Zerubabel e Shimei. I figlioli di Zerubabel, Meshulam e Ananiah, e Shelomit loro sorella. Poi Asshuba, Oher, Berechia, Azadia, Geshub e Zed, cinque in tutto. I figlioli di Ananiah, Pelatia ed Isaia. I figlioli di Refaia. I figlioli di Arnam. I figlioli di Abdiah. I figlioli di Shecaniah. I figlioli di Shecaniah, Shemaia. I figlioli di Shemaia, Atzun, Shagal, Baria, Nearia e Shafat, sei in tutto. I figlioli di Nearia, Elio Enai, Ezechia e Azricam, tre in tutto. I figlioli di Elio Enai, Odavia, Eliashì, Pelahia, Akub, Yonan, Delahia e Anani, sette in tutto. Primo Cronache, Capitolo IV. I figlioli di Giuda. Peretz, Etzron, Karmi, Ur e Shobal. Reahia, figliolo di Shobal, generò Jahat. Jahat generò Ahumai e Lahad. Queste sono le figliole degli Zoratei. Questi furono i discendenti del padre di Etam. Zeril, Zahma e Tbash. La loro sorella si chiamava Azeleponi. Penuel fu padre di Gedor ed Ezer, padre di Usha. Questi sono i figlioli di Ur, primo genito di Ephrata, padre di Bethlehem. Ashur, padre di Tekoa, ebbe due mogli, Elea e Nahara. Nahara gli partorì Asum, Efer, Temeni ed Ashtari. Questi sono i figlioli di Nahara. I figlioli di Elea, Zeret, Zohar e Edna. Kotz generò Anug, Etzobeba e le famiglie di Ahel, figliolo di Arum. Jabez fu più onorato dei suoi fratelli. Sua madre gli aveva messo nome Jabez perché diceva, L'ho partorito con dolore. Jabez invocò il Dio di Israele dicendo, Oh, se tu mi benedicessi e allargassi i miei confini, se la tua mano fosse meco, e se tu mi preservassi dal male in guisa che io non avessi da soffrire, e Dio gli concedete tutto quello che aveva chiesto. Kelub, fratello di Shua, generò Mehir, che fu padre di Eshton. Eshton generò Bet-Rafa, Paseat e Tehinna, padre di Irnaash. Questa è la gente di Zeca. I figlioli di Kenaz, Otniel e Seraia. I figlioli di Otniel, Atahaf. I meno Otai, generò Ofra. Serai, generò Joab, padre degli abitanti della valle degli artigiani, perché erano artigiani. Figlioli di Caleb, figlioli di Gephunne, Uru, Ela e Nam, figlioli dela, e Kenaz, figlioli di Jealel, Zif, Zifa, Tiriah e Azareel, figlioli di Esdra, Jeter, Mered, Efer, Jalom, La moglie di Mered, partori Miriam, Shammai e Itzbad, padre di Eschatemoah. L'altra sua moglie, la Giudea, partori Gered, padre di Gedor, Eber, padre di Soko, e Jecutiel, padre di Zanoah. Questi nominati prima erano figlioli di Bitia, figliola di Faraone, che Mered aveva presa per moglie. E figlioli della moglie di Odija, sorella di Naham, il padre di Kehila, il Garmeo ed Ettemoa, il Macateo, i figlioli di Shimon, Amom, Brina, Benanam, Tilom, i figlioli di Ishi, Zoset e Benzoet, i figlioli di Sela, figliolo di Giuda, Er, padre di Leca, Lada, padre di Marescia, e le famiglie della casa dove si lavora il bisso di Bet, Ascebea e Jochin, e la gente di Chesobea e Joas e Zaraf, che signoreggiarono su Moab, Geshubi Lehem. Ma queste sono cose d'antica data. Erano devasai, e stavano a Netem e a Gederat, stavano quivi presso al re per lavorare al suo servizio. Dicendenti di Simeone, figlioli di Simeone, Menuel, Jamim, Jarib, Zerat, Saul, che ebbe per figliolo Shalom, che ebbe per figliolo Mipsam, che ebbe per figliolo Mishma, figlioli di Mishma, e Moel, che ebbe per figliolo Zacur, che ebbe per figliolo Shimei, Shimei ebbe sedici figlioli e sei figliole, ma i suoi fratelli non ebbero molti figlioli, e le loro famiglie non si moltiplicarono quanto quelle dei figlioli di Giuda. Si stabilirono a Berciba, a Molada, a Ezzar Shuhal, a Bila, e a Ezzem, a Tolad, a Betuel, a Horma, a Ziklag, a Bet Mar-Kabot, e a Mazar, Susim, a Bet Biri, e a Sha-Raim, queste furono le loro città fino al regno di Davide. Avevano pure i villaggi di Etam, Ain, Rimon, Token, e a Sham, cinque terre, e tutti i villaggi che erano nei dintorni di quelle terre fino a Baal, queste furono le loro dimore, ed essi avevano le loro genealogie. Mashebab, Jemlek, Josha, figliolo di Amazia, Johel, Jehu, figliolo di Josibia, figliolo di Sheraia, figliolo di Azrael, Elio, Enai, Jaco, Coba, Jeshua, Azaia, Abdiel, Geshimiel, Benahia, Zisa, figliolo di Shephi, figliolo di Alon, figliolo di Jedahia, figliolo di Shimri, figliolo di Shemaia, questi uomini enumerati per nome erano principi delle loro famiglie, e le loro case patriarcali si accrebbero grandemente, andarono dal lato di Ghedor fino ad oriente della valle in cerca di pasture per i loro bestiami, trovarono pasture grasse e buone e un paese vasto, quieto e tranquillo, poiché quelli che lo abitavano prima erano i discendenti di Cam. Questi uomini ricordati più sopra per nome giunsero al tempo di Ezechiar e di Giuda, fecero man bassa sulle loro tende sui maoniti che si trovavano quivi, e li votarono allo sterminio, ne sono risorti fino al di d'oggi, poi si stabilirono colà in luogo di quelli, perché vera pastura per i bestiami. E una parte di questi figlioli di Simeone, cinquecento uomini, andarono verso il monte Seir, avendo alla loro testa Pelatia, Nearia, Refahia e Usier, figlioli di Ishi, distrussero gli avanzi degli ammalekiti che avevano potuto salvarsi e si stavilarono quisvi, dove sono rimasti fino al di d'oggi. I figlioli di Rubem, primogenito di Israele Poiché egli era il primogenito, ma siccome profanò il talamo di suo padre, la sua primogenitura fu data ai figlioli di Giuseppe, figliolo di Israele, non di meno Giuseppe non fu iscritto nelle genealogie come primogenito. Giuda ebbe, è vero, la prevalenza fra i suoi fratelli e da lui è disceso il principe, ma il diritto di promogenitura appartiene a Giuseppe. I figlioli di Rubem, primogenito di Israele, Anok, Pallù, Estrom e Carmi, i figlioli di Joer, Shemaiya, che ebbe per figliolo Gog, che ebbe per figliolo Shimei, che ebbe per figliolo Mika, che ebbe per figliolo Reaia, che ebbe per figliolo Baal, che ebbe per figliolo Be'era, che Tilga Palnesier, re di Assilia, menò in cattività. Esso era principe dei Rubeniti, fratelli di Be'era secondo le loro famiglie, come sono scritti nelle genealogie secondo le loro generazioni. Il primo Geier, poi Zaccaria, Bela figliolo di Asas, figliolo di Shema, figliolo di Joer. Bela dimorava a Roer, e si estendeva fino a Nebo, e a Balmeon, a Oriente, occupava il paese dal fiume Eufrate, fino all'entrata del deserto, perché aveva gran quantità di bestiame nel paese di Galahad. Al tempo di Saul, i discendenti di Bela, mossero guerra agli Agareni, che cadero nelle loro mani, e quelli si stabilirono nelle loro tende, su tutto il lato orientale di Galahad. I figlioli di Galahad, dimoravano di rimpetto a loro nel paese di Basham, fino a Salca. Joel fu il primo, Shafam il secondo, poi Janai e Shafat in Basham. I loro fratelli, secondo le loro case patriarcali, furono Mikael, Meshulam, Sheba, Jorai, Jacan, Zia ed Eber, sette in tutto. Essi erano i figlioli di Abihail, figliolo di Huri, figliolo di Joram, figliolo di Galahad, figliolo di Mikael, figliolo di Jeshishai, figliolo di Yaddo, figliolo di Bus, Hai, figliolo di Abediel, figliolo di Guni, era il capo della loro casa patriarcale. Abitavano nel paese di Galahad, di Basham, e nelle città che ne dipendevano, e in tutti i pascoli di Sharon, fino ai loro estremi limiti. Tutti furono iscritti nelle genealogie, al tempo di Jotam, re di Giuda, e al tempo di Geroboamo, re di Israele. I figlioli di Ruben, i Gaditi, e la metà tribù di Manasse, che avevano degli uomini prodi, che portavano scudo e spada, tiravano d'arco, ed erano addestrati alla guerra, e il numero di quarantaquattro mila settecentosessanta, atti a combattero, mossero guerra agli Agareni, a Getur, a Mefish, a Nadab, e furono soccorsi combattendo contro di loro, e gli Agareni e tutti quelli che erano con essi furono dati loro nelle mani, perché durante il combattimento essi gridarono a Dio che li esaudì, perché si erano confidati in Lui. Essi presero il bestiame dei vinti, cinquantamila cammelli, duecentomila pecore, duemila asini, centomila persone, molti ne caddero morti, perché nella guerra procedeva da Dio, e si stabilirono nel luogo di quelli, fino alla cattività. I figlioli della mezza tribù di Menasse abitarono anch'essi in quel paese da Bisham fino a Bal-Ermon e a Senir e al Monte Ermo. Erano numerosi, e questi sono i capi delle loro case patriarcali. Efer, Ishi, Eliel, Azriel, Geremia, Odavia, Jabdiel, uomini forti e valorosi di gran rinomanza, capi delle loro case patriarcali. Ma furono infedeli al Dio dei loro padri e si prostituirono andando dietro agli dei dei popoli del paese che Dio aveva distrutti dinanzi a loro. E l'Idio di Israele citò lo spirito di Pur, re di Assiria, e lo spirito di Tilgal Pan-Nesier, re di Assiria, e Tilgal Pan-Nesier, menò in cattività i rubeniti, i gaditi, e metà tribù di Menasse, e li trasportò a Alal e a Abor e a Ara, e presso al fiume di Gosa, dove sono rimasti fino al di Dogi. Primo Cronache, Capitolo Sesto Figliuoli di Levi Gershom, Kehat, e Merari, figliuoli di Kehat, Amram, Isehar, Ebron, e Uziel, e figliuoli di Amram, Aaron, Mosè, e Maria, e figliuoli di Aaron, Euron, Nedab, Abihu, Elezar, e Itamar, Elezar generò Phineas, Phineas generò Abishua, Abishua generò Buki, Buki generò Uzi, Uzi generò Zerahia, Zerahia generò Meriot, Meriot generò Amaria, Amaria generò Aitub, Aitub generò Sadoc, Sadoc generò Aimats, Ai Mats generò Azaria, Azaria generò Gionanan, e Gionanan generò Azaria, che esercitò il sacerdotio nella casa di Salomone, che egli edificò a Gerusalemme. Azaria generò Amaria, Amaria generò Aitub, Aitub generò Sadoc, Satov generò Shalom, Shalom generò Ilkija, Ilkija generò Azaria, Azaria generò Shiraia, Shiraia generò Getsotak, e Getsotak se ne andò in esilio, quando l'Eterno fece menare in cattività Giuda e Gerusalemme da Nebuchadnezzar, figlioli di Levi, Gershom, Kehat e Merari. Questi sono i nomi dei figlioli di Gershom, Libni e Shimei, i figlioli di Kehat, Amram, Getsuar, Hebron e Uziel, e i figlioli di Merari, Mali e Mushi. Queste sono le famiglie di Levi, secondo le loro case patriarcali. Gerushom ebbe per figliolo Libni, che ebbe per figliolo Jahath, che ebbe per figliolo Zimma, che ebbe per figliolo Gioah, che ebbe per figliolo Iddo, che ebbe per figliolo Zerah, che ebbe per figliolo Jehatrai, figlioli di Kehat, Amminadab, che ebbe per figliolo Kore, che ebbe per figliolo Asir, che ebbe per figliolo Elkanah, che ebbe per figliolo Abisaf, che ebbe per figliolo Asir, che ebbe per figliolo Tahhat, che ebbe per figliolo Uriel, che ebbe per figliolo Uzziah, che ebbe per figliolo Saul. I figlioli di Elkanah, Amassai e Ahimot, che ebbe per figliolo Elkanah, che ebbe per figliolo Zofai, che ebbe per figliolo Nahhat, che ebbe per figliolo Eliab, che ebbe per figliolo Geroham, che ebbe per figliolo Elkanah. I figlioli di Samuele, Vashtni, il primogenito, e Abia. I figlioli di Merari, Mahali, che ebbe per figliolo Libni, che ebbe per figliolo Shimei, che ebbe per figliolo Uzziah, che ebbe per figliolo Shimea, che ebbe per figliolo Aghia, che ebbe per figliolo Asaia. Questi sono quelli che Davide stabilì per la direzione del canto nella casa dell'Eterno, dopo che l'arca ebbe un luogo di riposo. Essi esercitarono il loro ufficio di cantori davanti al tabernacolo, davanti alla tenda di convegno, finché Salomone ebbe edificata la casa dell'Eterno a Gerusalemme, e facevano il loro servizio secondo la regola loro prescritta. Questi sono quelli che facevano il loro servizio, e questi i loro figlioli. Dei figlioli di Keatiti, emman il cantore, figliolo di Joël, figliolo di Samuele, figliolo di Elkana, figliolo di Geroham, figliolo di Eliel, figliolo di Toha, figliolo di Tzuf, figliolo di Elkana, figliolo di Mahat, figliolo di Amshai, figliolo di Elcana, figliolo di Joel, figliolo di Azaria, figliolo di Sofonia, figliolo di Atan, figliolo d'Assir, figliolo di Ebias, figliolo di Core, figliolo di Tsetzar, figliolo di Kehat, figliolo di Levi, figliolo di Israele. Poi vera il suo fratello Asaf che gli stava alla destra. Asaf figliolo di Berechia, figliolo di Simea, figliolo di Micau, figliolo di Basseia, figliolo di Marchigia, figliolo di Etni, figliolo di Zera, figliolo di Adaia, figliolo di Etan, figliolo di Zimma, figliolo di Simei, figliolo di Jahat, figliolo di Gersu, figliolo di Levi. I figlioli di Emerari, i loro fratelli, stavano a sinistra, ed erano. I loro fratelli, i Leviti, erano incaricati di tutto il servizio del tabernacolo della casa di Dio. Ma Aron e i suoi figlioli offrivano i sacrifici sull'altare degli Olocausti e l'incenso sull'altare dei profumi, compiendo tutto il servizio nel luogo santissimo e facendo l'espiazione per Israele secondo tutto quello che Mosè, servo di Dio, aveva ordinato. Questi sono i figlioli di Aronne. Eliazar, che ebbe per figliolo Fineas, che ebbe per figliolo Abishua, che ebbe per figliolo Buki, che ebbe per figliolo Uzi, che ebbe per figliolo Zeraia, che ebbe per figliolo Meraioth, che ebbe per figliolo Amaria, che ebbe per figliolo Aitub, che ebbe per figliolo Tzadok, che ebbe per figliolo Amia, Aimaz. Questi sono i luoghi delle loro dimore, secondo le loro circoscrizioni nei territori loro assegnati. A figliole di Aaron e della famiglia dei Kenaititi, che furono i primi tirati a sorte, furono dati Ebro nel paese di Giuda e il contato dell'intorno, ma il territorio della città e i suoi villaggi furono dati a Caleb, figliolo di Giù Fenne, e ai figlioli di Aaron fu data Ebro, città di rifugio. Le loro città erano in tutto il numero di tredici, pari al numero delle loro famiglie. Agli altri figlioli di Ketat toccarono a sorte dieci città delle famiglie delle tribù di Efraim, della tribù di Dan e della mezza tribù di Menasse. Ai figlioli di Gershom, secondo le loro famiglie, toccarono tredici città della tribù di Issacar, della tribù di Asher, della tribù di Neftali e della tribù di Menasse in Basham. A figlioli di Merari, secondo le loro famiglie, toccarono a sorte dodici città della tribù di Ruben, della tribù di Gad e della tribù di Zavulom. I figlioli di Israele dettero ai Leviti quelle città con i loro contadi, dettero a sorte della tribù dei figlioli di Giuda, della tribù dei figlioli di Simeone e della tribù dei figlioli di Beniamino, le dette città che furono designate per nome. Quanto alle altre famiglie dei figlioli di Cheat, le città del territorio assegnato loro appartenevano alla tribù di Efraim. Dettero loro sicche in città di rifugio col suo contado, nella contrada montuosa di Efraim, Gesar col suo contado, Giochemeam col suo contado, Bet-Horon col suo contado, Ajalon col suo contado, Gad-Rimon col suo contado, della mezza tribù di Menasse, Aner col suo contado, Bileam col suo contado. Queste furono le città date alle famiglie degli altri figlioli di Cheat. Ai figlioli di Gershom toccarno della famiglia della mezza tribù di Menasse, Golan in Basham col suo contado, Astaroth col suo contado, della tribù di Zachar, Kedesh col suo contado, Debrath col suo contado, Ramoth col suo contado, e Anem col suo contado. Della tribù di Asher, Mashal col suo contado, Abdon col suo contado, Ukok col suo contado, Rehob col suo contado. Della tribù di Neftali, Kedesh in Galilea col suo contado, Ammon col suo contado, Kiriat Aim col suo contado. Al rimanente dei Leviti, ai figlioli di Merari, toccarono della tribù di Zavulom, Rimon col suo contado, Tabor col suo contado, e di là dal Giordano di Gerico all'oriente del Giordano, della tribù di Ruben, Bezer col suo deserto, nel suo contado. Giazza col suo contado, Redemoth col suo contado, e Mefaat col suo contado, e della tribù di Gad, Ramoth in Galahad col suo contado, Mahanahim col suo contado, Eshbon col suo contado, Jeaheser col suo contado. Primo libro delle cronache, capitolo settimo. Figlioli di Issacar, Tola, Pua, Jashub e Shimron, quattro in tutto, figlioli di Tola, Uzi, Refahia, Geriel, Jahamai, Shbassam e Samuele, capi delle case patriarcali discese da Tola, ed erano uomini forti e valorosi nelle loro generazioni, e il loro numero al tempo di Davide era di 22.600. Figlioli di Uzi, figlioli di Zarahia, figlioli di Zarahia, Micael, Abdiah, Joheel e Gessiah, cinque in tutto e tutti i capi. Avevano con loro, secondo le loro genealogie e secondo le loro case patriarcali, 36.000 uomini in schiere armate per la guerra, perché avevano molte mogli e molti figlioli. I loro fratelli, contando tutte le famiglie di Issacar, uomini forti e valorosi, formavano un totale di 87.000 iscritti nelle geneologie. Discendenti di Beniamino Figlioli di Beniamino, Bela, Beke, Gediahel, tre in tutto. Figlioli di Bela, Ezbon, Uzi, Uziel, Gerimot ed Iri, cinque capi di case patriarcali, uomini forti e valorosi, scritti nelle geneologie, in numero di 22.034. Figlioli di Beke, Zemira, Joash, Eliezer, Elioenai, Omri, Geromot, Abijah, Anatot e Alemet. Tutti questi erano figlioli di Beke e iscritti nelle geneologie secondo le loro generazioni, come capi di case patriarcali, uomini forti e valorosi, in numero di 20.200. Figlioli di Gediahel, Bilan, figlioli di Bilan, Gieshush, Beniamino, Ehud, Kenahanna, Zetna, Tarsis ed Aisha Har. Tutti questi erano figlioli di Gediahel, capi di case patriarcali, uomini forti e valorosi, in numero di 17.200, pronti a partire per la guerra. Shupin e Upin, figlioli d'Ir, usci in figliolo d'un altro. I figlioli di Neftali Il nome del suo secondo figliolo era Celofehad, e Celofehad ebbe delle figliole. Ma'acca, moglie di Makir, partorì un figliolo al quale pose nome Peresh. Questi ebbe un fratello di nome Sheresh, i cui figlioli furono Ulam e Rechem. I figlioli di Ulam, Bedam, questi furono i figlioli di Galahad, figliolo di Makir, figliolo di Menasse. La sua sorella, Amoleket, partorì Ishod, Abiezer e Mahala. I figlioli di Shemida furono Ahiam, Shechem, Lichi e Aniam, discendenti di Efrem. I figlioli di Efrem, Shetela, che ebbe per figliolo Bered, che ebbe per figliolo Tahat, che ebbe per figliolo Eleada, che ebbe per figliolo Tahat, che ebbe per figliolo Zabad, che ebbe per figliolo Shetula. Edzer e Elead, i quali furono uccisi da quei di Gath, nativi del paese, perché erano scesi a prendere il loro bestiame. Efrem, loro padre, li pianse per molto tempo, e i suoi fratelli vennero a consolarlo. Poi entrò da sua moglie, la quale concepì e portorì un figliolo, e lo chiamò Beria, perché questo era venuto mentre aveva l'afflizione in casa. Efrem ebbe per figliola Shehera, che edificò Bet-Orom, la inferiore e la superiore, e Uzen-Shehera. Ebbe ancora per figlioli Repha e Resef, il qual Repha ebbe per figliolo Tela, che ebbe per figliolo Taham, che ebbe per figliolo Ladan, che ebbe per figliolo Hamihud, che ebbe per figliolo Elishama, che ebbe per figliolo Nun, che ebbe per figliolo Giosuè. Le loro possessioni e abitazioni furono Bet-O e le città che ne dipendevano, dalla parte orientale, Naharam, da occidente Geser con le città che ne dipendevano, Sikhen con le città che ne dipendevano, fino a Gaza con le città che ne dipendevano. I figlioli di Menasse possedevano Bet-Sem e le città che ne dipendevano, Tanat e le città che ne dipendevano, Meghito e le città che ne dipendevano, Dor e le città che ne dipendevano. In queste città abitarono i figlioli di Giuseppe, figliolo di Israele. Dicendenti di Asher Figlioli di Asher Gimna, Itzva, Itzvi, Beria, Sera, loro sorella. I figlioli di Beria, Eber e Markier. Markier fu padre di Birzavit, e Eber generò Jaflet, Shomer, Otam e Shua, loro sorella. Figlioli di Shaflet, Pasak, Bimhad e Ashvat. Questi sono i figlioli di Jaflet. Figlioli di Shemer, Hai, Rohega, Hubba e Aram. I figlioli di Elan, suo fratello, Tzofa, Shmna, Shelesh e Amal. I figlioli di Zofan, Sua, Arnefer, Shual, Beri, Shmra, Bezer, Hod, Shmana, Shilsha, Shram e Be'era. I figlioli di Jeter, Jefune, Pispa e Ara. I figlioli di Ulla, Ara, Haniel e Rizia. Tutti questi furono figlioli di Asher, capi di case patriarcali, uomini scelti, forti e valorosi, capi tra i principi scritti per il servizio di guerra, il numero di ventisei mila uomini. Primo libro delle Cronache, capitolo ottavo. Beniamino generò Bela suo primogenito, Ashbel il secondo e Harak il terzo, Noa il quarto e Rafa il quinto. I figlioli di Bela furono Adar, Gera, Abi Hud, Abi Shua, Naamam, Ahoa, Gera, Shufufa, Uram. Questi sono i figlioli di Heud, che erano capi delle famiglie che abitavano a Geba e che furono trasportati schiavi a Manahat. Egli generò Nahama, Ahija, Gera, che li menò via schiavi, e generò Uzza ed Ahihud. Sehara im ebbe dei figlioli nella terra di Moab, dopo che ebbe ripudiate le sue moglie Ushim e Ba'arra. Da Adesh sua moglie ebbe Jabab, Zibia, Mesha, Malcam, Jetz, Zocchia, Mirma. Questi furono i suoi figlioli capi di famiglie patriarcali. Da Ushim ebbe Abitub e El-Pa'al, figlioli di El-Pa'al, Eber, Misham, Shemed, che edificò Ono, Lod e le città che ne dipendevano. Beria e Shema erano i capi delle famiglie che abitavano a Ajalom e misero in fuga gli abitanti di Gat. Ahio, Sheskak, Geremot, Zebadia, Narad, Eder, Mikael, Gispa, Gio'a erano figlioli di Beria. Zebadia, Meshulam, Itzki, Eber, Jesmerai, Itzliya, Jabab erano i figlioli di El-Pa'al. Jaqin, Zikri, Zabdi, Elineai, Zilettai, Eliel, Adaiya, Beraiya, Shimrat erano i figlioli di Shimei. Jaspan, Eber, Eliel, Abdon, Zikri, Anam, Anania, Elan, Atonigia, Gideia e Peduel erano i figlioli di Shashak. Shamsherai, Sheairia, Atalia, Jaaresia, Elijia, Zikri erano i figlioli di Geroam. Questi erano capi di famiglie patriarcali, capi secondo le loro generazioni e abitavano a Gerusalemme. Il padre di Gabaon abitava a Gabaon e sua moglie si chiamava Maacca. Il suo figliolo primogenito fu Abdom, poi ebbe Zur, Kish, Baal, Nadab, Gedor, Ahio, Zeker. Miklot generò Shimea. Anche questi abitarono di rimpetto ai loro fratelli a Gerusalemme coi loro fratelli. Ner generò Kis, Kis generò Saul, Saul generò Jonathan, Mil-Kishua, Ab-Din-E-Dab, Es-Baal. Figlioli di Jonathan. Beribar generò Mika. I figlioli di Mika, Pitom, Mele, Ta-Area, Ahaz. Ahaz generò Jehohadda. Jehohadda generò Alemet, Azmavet e Zimri. Zimri generò Mozza. Mozza generò Binea che ebbe per figliolo Rafa, che ebbe per figliolo Eleasa, che ebbe per figliolo Azzel. Azzel ebbe sei figlioli dei quali questi sono i nomi. Azricam, Bokru, Ishmael, Shehariah, Obadiah, Anam. Tutti questi erano figlioli di Azzel. Figlioli di Eshek, suo fratello. Ulam, il suo primo genito. Jehush, il secondo. Elifelet, il terzo. I figlioli di Ulam furono uomini forti e valorosi tiratori d'arco. Ebbero molti figlioli e nipoti. Centocinquanta. Tutti questi furono discendenti di Beniamino. Primo libro delle cronache, capitolo nono. Tutti gli israeliti furono registrati nelle geneologie e si trovano iscritti nel libro dei re di Israele. Giuda fu menato in cattività a Babilonia a motivo delle sue infedeltà. Or, i primi abitanti che si stabilirono nei possessi delle loro città erano israeliti, sacerdoti, leviti e netinei. A Gerusalemme si stabilirono dei figlioli di Giuda, dei figlioli di Beniamino, dei figlioli di Efraim e di Menasse, dei figlioli di Perez, figliolo di Giuda, Utai, figliolo di Amihud, figliolo di Omri, figliolo di Imbri, figliolo di Bani, dei Sciloniti, Asaia, il primo genito e i suoi figlioli, dei figlioli di Zera, Jehuer e i suoi fratelli, 690 in tutto, dei figlioli di Beniamino, Sallu, figliolo di Meshulam, figliolo di Odavia, figliolo di Assena, Sbenaia, figliolo di Joram, Ela, figliolo di Uzi, figliolo di Micri, Meshlum, figliolo di Scefatia, figliolo di Reuvel, figliolo di Jwipnia, i loro fratelli, secondo le loro generazioni, 956 in tutto. Tutti questi erano capi delle rispettive case patriarcali, dei sacerdoti, Jedahia, Joiarib, Jaqim, Azaria, figliolo di Ilchia, figliolo di Meshulam, figliolo di Zadok, figliolo di Marayot, figliolo di Aitù, proposto alla casa di Dio, Adahia, figliolo di Geroham, figliolo di Paschur, figliolo di Malkisha, Maesai, figliolo di Adiel, figliolo di Jarzera, figliolo di Meshalun, figliolo di Meshilemit, figliolo di Imer, e i loro fratelli, capi delle rispettive case patriarcali, 1660 uomini valorosi occupati a compiere il servizio della casa di Dio, dei Leviti, Shemaia, figliolo di Ashhub, figliolo di Azrihan, figliolo di Ashkabia, dei figlioli di Merari, Bacabaccar, Aresh, Galar, Matania, figliolo di Mika, figliolo di Zikri, figliolo di Asaf, Aobadia, figliolo di Shemaia, figliolo di Galar, figliolo di Jiu Duthum, Berachia, figliolo di Hasa, figliolo di Elcana, che abitava nei villaggi di Netofatiti, dei Portinai, Shalom, Akhub, Talmon, Ahiman e i loro fratelli. Shalom era il capo, e tal è rimasto fino al dì d'oggi, alla porta del re che è ad Oriente. Essi sono quelli che furono i portieri del campo dei figlioli di Levi. Shalom, figliolo di Core, figliolo di Ebi Asaf, figliolo di Cora, e i suoi fratelli, i corahiti della casa di suo padre, erano proposti all'opera del servizio, costudendo le porte del tabernacolo, e i loro padri erano stati preposti al campo dell'Eterno per costudire l'entrata. Finea, figliolo di Lea Zaro, era stato anticamente il loro capo, e l'Eterno era con lui. Zaccaria, figliolo di Mescela Mia, era portiere all'ingresso della tenda di convegno. Tutti questi che furono scelti per essere custodi delle porte, erano in numero di duecentodici, ed erano iscritti nelle geneologie secondo i loro villaggi. Davide e Samuele il Veggente li avevano stabiliti nel loro ufficio. Essi e i loro figlioli erano proposti alla custodia delle porte della casa dell'Eterno, cioè della casa del tabernacolo. Verano dei portinai ai quattro lati, a oriente, a occidente, a settentrione e a mezzogiorno. I loro fratelli, che dimoravano nei loro villaggi, dovevano di quando in quando venire a stare degli altri per sette giorni, poiché i quattro capi portinai leviti erano sempre in funzione e avevano anche la sorveglianza delle camere e dei tesori della casa di Dio e passavano la notte intorno alla casa di Dio perché avevano l'incarico di costudirla e a loro aspettava ad aprirla tutte le mattine. Alcuni d'essi dovevano prendere cura degli arredi del culto, che essi contavano quando si portavano nel tempio e quando si riportavano fuori. Altri avevano l'incarico di costudire gli utensili, tutti i vasi sacri, il fior di farina, il vino, l'olio, l'incenso e gli aromi. Quelli che preparavano i profumi aromatici erano i figlioli di sacerdoti. Matithia, uno dei leviti primogenito di Shalom, il Korahita, aveva l'ufficio di badare alle cose che si dovevano cuocere sulla gratella e alcuni dei loro fratelli, fra i cheatiti, erano incaricati di preparare per ogni giorno i panni della presentazione. Tali sono i cantori, capi delle famiglie levitiche, che dimoravano nelle camere del tempio ed erano esenti da ogni altro servizio perché l'ufficio loro li teneva occupati giorno e notte. Tali sono i capi delle famiglie levitiche, capi secondo le loro generazioni. Essi stavano a Gerusalemme. Genealogia di Saul e di Jonathan A Gabbaon abitavano Jeiel, padre di Gabbaon, la cui moglie si chiamava Maacca. Abdon, suo figliolo primogenito, Zurkis, Baal, Ner, Nadab, Gedol, Ahio, Zaccaria, Miclot, Miclot generò Shimeam. Anche essi dimoravano di rimpetto ai loro fratelli a Gerusalemme coi loro fratelli. Ner generò Kis, Kis generò Saul, Saul generò Jonathan, Malkishua, Abinedab e Eshbaal. Il figliolo di Jonathan fu Mary Baal e Mary Baal generò Mika. Il figliolo di Mika, Pitom, Melek, Tearea ed Ahaz. Ahaz generò Jarad, Jarad generò Alamet, Azmavet e Zimri. Zimri generò Mozza. Mozza generò Binea, che ebbe per figliolo Refaia, che ebbe per figliolo Elehasa, che ebbe per figliolo Atzel. Atzel ebbe sei figlioli, dei quali questi sono i nomi, Asirakam, Bokru, Ishmahele, Sheharia, Obadia, Anam. Questi sono i figlioli di Atzel. Primo libro delle cronache, capitolo decimo. Or, i filistei vennero a battaglia con Israele, e gli israeliti fuggirono dinanzi ai filistei, e caddero morti in gran numero sul monte Gilboa. I filistei inseguirono accanitamente Saul e i suoi figlioli, e uccisero Jonathan, Abinadab, Melchishua, figlioli di Saul. Il forte della battaglia si volse contro Saul, e gli arcieri lo raggiunsero, ed egli si trovò in grande angoscia a motivo degli arcieri. E Saul disse al suo scudiere, sfodera la spada e trafiggimi, affinché questi incirconcisi non vengano a trafiggermi e a farmi oltraggio. Ma lo scudiere non volle farlo, perché era colto da gran paura. Allora Saul prese la propria spada e vi si gettò sopra. Lo scudiere di Saul, vedendolo morire, si gettò anche egli sulla propria spada e morì. Così morirono Saul e i suoi tre figlioli, e tutta la sua casa perì nel medesimo tempo. E tutti gli israeliti che abitavano nella valle, quando videro che la gente d'Israele s'era data la fuga, e che Saul e i suoi figlioli erano morti, abbandonarono le loro città e fuggirono. E i filistei andarono ad abitarle. L'indomani i filistei vennero a spogliare gli uccisi, e trovarono Saul e i suoi figlioli caduti sul monte Gilboa. Spogliarono Saul e portarono via la sua testa e le sue armi, e mandarono all'intorno per il paese dei filistei ad annunziare la buona notizia ai loro idoli e al loro popolo. E collocarono le armi di lui nella casa del loro Dio, e inchiodarono il suo teschio nel tempio di Dagom. Tutta la gente di Jabez, di Galaad, udì tutto quello che i filistei avevano fatto di Saul, e tutti gli uomini valorosi si levarono, presero il cadavere di Saul e i cadavere dei suoi figlioli, e li portarono a Jabez, seppellirono le loro ossa sotto della temerice di Jabez, e digionarono per sette giorni. Così morì Saul a motivo dell'infedeltà che gli aveva commessa contro l'Eterno, con non aver osservato la parola dell'Eterno, ed anche perché aveva interrogato e consultato quelli che evocano gli spiriti, mentre non aveva consultato l'Eterno, e l'Eterno lo fece morire, e trasferì il regno a Davide, figliuolo di Sai. Primo libro delle Cronache, capitolo undicesimo Allora tutto Israele si radunò presso Davide a Ebron, e gli disse, Ecco, noi siamo tue ossa e tua carne. Anche in passato, quando era re Saul, eri tu quel che guidavi e riconducevi Israele, e l'Eterno il tuo Dio ti ha detto, Tu pascerai il mio popolo di Israele, tu sarai il principe del mio popolo di Israele. Tutti gli anziani del popolo vennero dunque dal re a Ebron, e Davide fece alleanza con loro a Ebron in presenza dell'Eterno, ed essi unsero Davide come re di Israele secondo la parola che l'Eterno aveva pronunziato per mezzo di Samuele. Davide con tutto Israele si mosse contro Gerusalemme che è Jebus, qui vi erano i Jebusei abitanti del paese, e gli abitanti di Jebus dissero a Davide, Tu non entrerai qui. Ma Davide prese la fortezza di Sion, che è la città di Davide. Or Davide aveva detto, Chiunque batterà per il primo i Jebusai, sarà capo e principe. E Joab, figliolo di Zeruia, salì il primo e fu fatto capo. E Davide abitò nella fortezza, e per questo essa fu chiamata la città di Davide. Ed egli cinse la città di costruzioni cominciando da Millo e tutto all'intorno, e Joab riparò il resto della città. E Davide andava diventando sempre più grande, e l'Eterno degli eserciti era con lui. Questi sono i capi dei valorosi guerrieri che furono al servizio di Davide, e che l'aiutarono con tutto Israele ad assicurare il suo dominio per stabilirlo re, secondo la parola dell'Eterno riguardo all'Israele. Questa è la lista dei valorosi guerrieri che furono al servizio di Davide. Joab, figliolo di Achimonita, capo dei principali ufficiali, egli impugnò la lancia contro trecento uomini che uccise in un solo scontro. Dopo di lui veniva Eleazar, figliolo di Dodolo, Haohita, uno dei tre valorosi guerrieri. Egli era con Davide a Pas-damin, dove i filistei s'erano radunati per combattere. Verra qui vi un campo pieno d'orso, e il popolo fuggiva dinanzi ai filistei, ma quelli si piantarono in mezzo al campo, lo difessero e sconfissero i filistei, e l'Eterno diede una grande vittoria. Tre dei trenta capi scessero sulla roccia presso Davide nella spelonca di Adulam, mentre l'esercito dei falistei era accampato nella valle di Refaim. Davide era allora nella fortezza, e c'era un posto di filistei a Bethlehem. Davide ebbe un desiderio e disse, Oh, se qualcuno mi desse da bere dell'acqua del pozzo che è vicino alla porta di Bethlehem. E quei tre si aprirono un varco attraverso il campo dei filistei, attingero dell'acqua dal pozzo di Bethlehem vicino alla porta, e prese la secola, presentarono a Davide, il quale però non la volle bere, ma la sparse davanti all'Eterno dicendo, Mi guardi Dio di far tal cosa. Beverei io il sangue di questi uomini che sono andati là a rischio della loro vita, perché l'han portata a rischio della loro vita, e non la volle bere. Questo fecero quei tre prodi. Abishai, fratello di Joab, fu il capo di altri tre. Egli impugnò la lancia contro trecento uomini e l'uccise, e fu famoso fra i tre. Fu il più illustre dei tre della seconda serie, e fu fatto loro capo. Non di meno non giunse ad uguagliare i primi tre. Poi veniva Benaia, figliuolo di Geoiada, figliuolo di un uomo di Capseal, valoroso e celebre per le sue prodezze. Egli uccise i due grandi eroi di Moab. Discese anche in mezzo a una cisterna, dove uccise un leone, un giorno di neve. Uccise pure un egiziano di statura enorme, alto cinque cubiti, che teneva in mano una lancia grossa come un subio da tessitore. Ma Benaia gli scese contro con un bastone, strappò di mano all'egiziano la lancia, e se ne servì per ucciderlo. Questo fece Benaia, figliuolo di Geoiada, e fu famoso fra i tre prodi. Fu il più illustre dei trenta. Non di meno non giunse ad uguagliare i primi tre. E Davide lo ammise nel suo consiglio. Poi verano questi uomini forti e valorosi. Asael, fratello di Joab, El-Anam, figliuolo di Dodo da Bethlehem, Shamot da Oror, Eletz da Palom, Ira, figliuolo di Ikkesh da Tekoa, Abiezer da Anatot, Sibakkei da Usha, Ilai da Hahoah, Maharai da Netofa, Elel, figliuolo di Baanna da Netofa, Itai, figliuolo di Ribai da Gibea, dei figliuoli di Beniamino, Benaia da Pirathot, Urai da Nael Gash, Abiel da Arbat, Azmavet da Beharum, Elihaba da Shaalbom, Bene Hashem da Gizom, Jonathan, figliuolo di Shaghe da Arar, Aimin, figliuolo di Shekar da Arar, Elifal, figliuolo di Ur, Efer di Mechera, Ahisha da Pilom, Ezdro da Carmel, Naharai, figliuolo di Ezbai, Johel, fratello di Natam, figliuolo di Hagri, Selek, Lamonita, Naharai da Berot, Scudiero di Joab, figliuolo di Zeruiah, Ira da Getter, Gareb da Getter, Urialo Itteo, Zabat, figliuolo di Alai, Adina, figliuolo di Scisa, il Rubenita, capo dei Rubeniti, ed altri trenta con lui, Anam, figliuolo di Maacca, Giosafar da Mitni, Uzzia da Asherot, Shalamai e Jeiel, figliuolo di Otham, da Areor, Jeiel, figliuolo di Shimri, Joa, suo fratello Il-Titsita, Eliel da Mahavin, Jeribai e Jovahliah, figliuoli di El-Mahen Jitma, il Maubita, Eliel, Obel, Jaasiel, e Mezzobaita. Primo libro delle cronache, Capitolo dodicesimo Or questi sono quelli che vennero a Davide a Ziklag, mentre egli era ancora fuggiasco per tema di Saul, figliuolo di Chis. Essi facevano parte dei prodi che gli prestarono aiuto durante la guerra. Erano armati d'arco, abili a scagliarsarsi e a tirar frecce, tanto con la destra quanto con la sinistra. Erano della tribù di Beniamino dei fratelli di Saul, il capo a Iezer e Joas, figliuoli di Shemah, da Gibea, Gesiel e Peled, figliuoli di Atzmavet, Beraca, Jehu da Anatol, Yashmaia da Gabaon, valoroso fra i trenta e capo di trenta, Jeremia, Ihatziel, Geonam, Jozabad da Gedara, Elutzai, Gerimot, Bealia, Shemaria, Shemaria, Shemaria da Erruf, Elkana, Yashia, Azaril, Joeser e Geshobem, Coraiti, Joela e Zebadia, figliuoli di Joraham, da Gedor, fra i gaditi, degli uomini, partirono per recarsi da Davide, nella fortezza del deserto. Erano uomini forti e valorosi, esercitati alla guerra, che sapeva maneggiare scudo e lancia dalle facce leoninie e veloci come gazzelli sui monti. Ezer era il capo, Obadia il secondo, Eliab il terzo, Mishmanna il quarto, Jeremia il quinto, Atta il sesto, Eliel il settimo, Johanan l'ottavo, Elzabad il nono, Jeremia il decimo, Macbanai l'undicesimo. Questi erano dei figlioli di Gad, capi dell'esercito. Il minimo tenia a fronte a cento, il maggiore a mille. Questi sono quelli che passarono il Giordano il primo mese quando era straripato dappertutto e misero in fuga tutti gli abitanti delle valli a oriente e ad occidente. Anche dei figlioli di Beniamino e di Giuda vennero a Davide nella fortezza. Davide uscì loro incontro e si rivolse a loro dicendo, Se venite da me con buon fine per soccorrermi, il mio cuore sarà unito col vostro, ma se venite per tradirmi e darmi nelle mani dei miei avversari, mentre io non commetto alcuna violenza, l'iddio dei nostri padri lo vega e faccia egli giustizia. Allora lo spirito investì a Massai, capo dei trenta, che esclamò, Noi siamo tuoi, o Davide, e siamo con te, o figliolo di Sai. Pace, pace a te, e pace a quei che ti soccorrano, poiché il tuo Dio ti soccorre. Allora Davide li accolse e li fece capi delle sue schiere. Anche degli uomini di menasse passarono a Davide, quando questi andò con i filistei a combattere contro Saul. Ma Davide e i suoi uomini non furono d'alcun aiuto ai filistei, giacché i principi dei filistei, dopo essere stati consultati, rimandarono Davide dicendo, Egli passerebbe dalla parte del suo signore, Saul, a prezzo delle nostre teste. Quando Egli tornò a Ziklag, questi furono quelli di menasse che passarono a lui. Adna, Josabad, Jediahel, Mikael, Josabad, Elihu, Ziletai, capi di migliaia delle tribù di menasse. Questi uomini dedero aiuto a Davide contro le bande dei predoni, perché erano tutti uomini forti e valorosi e furono fatti capi nell'esercito. E ogni giorno veniva gente a Davide per soccorrerlo, tanta che se ne formò un esercito grande come un esercito di Dio. Guerrieri delle dodici tribù che si recarano a Ebrom per proclamare re Davide. Questo è il numero degli uomini armati per la guerra che si presentarono a Davide e a Ebrom per trasferire a lui la podestà reale di Saul secondo l'ordine dell'Eterno. Figlioli di Giuda che portavano scudo e lancia 6.800 armati per la guerra. Dei figlioli di Simeone, uomini forti e valorosi in guerra, 7.100. Dei figlioli di Leve, 4.600. E Gioiada, principe della famiglia d'Aronne, e con lui 3.700 uomini, e Tzadok, giovine, forte e valoroso, e la sua casa patriarcale che contava 22 capi. Dei figlioli di Beniamino, fratelli di Saul, 3.000, poiché la maggior parte d'essi fino allora era rimasta fedele alla casa di Saul. Dei figlioli di Efraim, 20.800. Uomini forti e valorosi, gente di gran nome, divisi secondo le loro casse patriarcali. Della mezza tribù di Benasse, 18.000 che furono designati nominatamente per andare a proclamare re Davide. Dei figlioli di Issacar, che intendevano i tempi in modo da sapere quel che Israele doveva fare, 200 capi, e tutti i loro fratelli secondo i loro ordini. Di Zabulon, 50.000 atti a servire forniti per il combattimento di tutte le armi da guerra, e pronti ad impegnare l'azione con un cuore risoluto. Di Neftali, 1.000 capi, e con essi 37.000 uomini armati di scudo e di lancia. Dei daniti armati per la guerra, 28.600. Di Asher, atti a servire e pronti all'ordine di battaglia, 40.000. E di là dal Giordano, dei Rubeniti, dei Gaditi e della mezza tribù di Benasse, forniti per il combattimento di tutte le armi da guerra, 120.000. Tutti questi uomini, gente di guerra, pronti a ordinarsi in battaglia, giunsero a Ebron con sincerità di cuore per proclamare Davide re soprattutto Israele, e anche tutto il rimanente di Israele era un amine per fare re Davide. Essi rimasero qui vi tre giorni con Davide a mangiare e a bere, poiché i loro fratelli avevano preparato per essi dei viveri, e anche quelli che erano loro vicini, e perfino gente da Isacar, da Sapulone e da Neftali, portavano dei viveri sopra asini, sopra cammelli, sopra muli e su buoi, farina, fichi secchi, uva secca, vino, olio, buoi e pecore in abbondanza, perché vera gioia in Israele. Primo libro delle Cronache, capitolo tredicesimo Davide tenne consiglio coi capi di migliaia e di centinaia, cioè con tutti i principi del popolo, e poi disse a tutta la radunanza di Israele, se vi par bene e se l'Eterno il nostro Dio l'approva, mandiamo dappertutto a dire ai nostri fratelli che sono rimasti in tutte le regioni di Israele e così pure ai sacerdoti e alleviti nelle loro città e nei loro contadi che si uniscano a noi e riconduciamo qui da noi l'arca del nostro Dio, poiché non ce ne siamo occupati ai tempi di Saul. E tutta la radunanza rispose che si facesse così già che la cosa parve buona agli occhi di tutto il popolo. Davide dunque radunò tutto Israele dallo Shihor d'Egitto fino all'ingresso di Amat per ricondurre l'arca di Dio da Kiri e Jearim e Davide con tutto Israele salì verso Bahalla cioè verso Kiri e Jearim che appartiene a Giuda per trasferire di là l'arca di Dio dinanzi alla quale è invocato il nome dell'Eterno che siede sovressa fra i cherubini e possero l'arca di Dio sopra un carro nuovo levandola dalla casa di Abinadab e Usa e Ahio conducevano il carro Davide e tutto Israele danzavano dinanzi a Dio a tutto potere cantando e sonando cetre salte ritimpano cembali e trombe ora come furono giunti all'aia di Kidon Usa stesse la mano per reggere l'arca perché i buoi la facevano piegare e l'ira dell'Eterno si accese contro Usa e l'Eterno lo colpì per avere stesa la mano sull'arca e qui Usa morì dinanzi a Dio Davide si attristò perché l'Eterno aveva fatto una breccia nel popolo colpendo Usa in quel luogo e così quel luogo è stato chiamato Peretz Usa fino al di Doji Davide in quel giorno ebbe paura di Dio e disse come farò a portare a casa mia l'arca di Dio e Davide non ritirò l'arca presso di sé nella città di Davide ma la fece portare in casa di Obed-Edom di Gath e l'arca di Dio rimase tre mesi dalla famiglia di Obed-Edom in casa di lui e l'Eterno benedisse la casa di Obed-Edom e tutto quello che gli apparteneva primo libro delle cronache capitolo quattordicesimo Iriam re di Tiro inviò a Davide dei messi delle gname di cedro dei muratori delle gnaiuoli per edificargli una casa allora Davide riconobbe che l'Eterno lo stabiliva saldamente come re di Israele giacché la sua dignità reale era grandemente esaltata per amore di Israele del popolo di Dio Davide si prese ancora delle moglie a Gerusalemme e generò ancora figlioli e figliole questi sono i nomi dei figlioli che gli nacquero a Gerusalemme Shammua Shobab Natan Salomone Jabar Elishua El-Pelet Noga Nefeg Yafia Elishama Beliada ed Elifelet or quando i filistei ebbero udito che Davide era stato unto re di Israele saliron tutti in cerca di lui e Davide saputolo uscì loro incontro i filistei giunsero e si sparsero per la valle di Refain allora Davide consultò Dio dicendo salirò io contro i filistei e me li darai tu nelle mani l'Eterno gli rispose sali e io li darò nelle tue mani i filistei dunque salirono a Bal Perazzin dove Davide li sconfisse e disse i Dio ha rotto i miei nemici per mano mia come quando le acque rompono le dighe perciò fu dato a quel luogo il nome di Bal Perazzin i filistei lasciarono qui i loro dei che per ordine di Davide furono dati alle fiamme di poi i filistei tornarono a spargersi per quella valle e Davide consultò di nuovo Dio e Dio gli disse non salire dietro ad essi allontanati e gira intorno a loro e giungerai su di essi dal lato dei gelsi e quando udrai un rumore di passi tra le vette dei gelsi esci subito all'attacco perché Dio marcerà la testa tua per sconfiggere l'esercito dei filistei Davide fece come Dio gli aveva comandato e gli sdraeriti sconfissero l'esercito dei filistei a Gabaon e a Geser e la fama di Davide si sparse per tutti i paesi e l'Eterno fecesi che egli incutesse spavento a tutte le genti primo libro delle cronache capitolo quindicesimo Davide si costruì delle case nella città di Davide preparò un luogo per l'arca di Dio ed rizzò una tenda per essa allora Davide disse nessuno deve portare l'arca di Dio tranne i leviti perché l'Eterno ha scelti loro per portare l'arca di Dio e per essere suoi ministri in perpetuo e Davide convocò tutto Israele a Gerusalemme per trasportare l'arca dell'Eterno al luogo che egli le aveva preparato Davide radinò pure i figlioli di Aronne e i leviti dei figlioli di Kehat Uriel il capo e i suoi fratelli centoventi dei figlioli di Merari Asaia il capo e i suoi fratelli duecentoventi dei figlioli di Gersom Gioel il capo e i suoi fratelli centotrenta dei figlioli di Elisafan Shemaiah il capo e i suoi fratelli duecento dei figlioli di Ebrom Eliel il capo e i suoi fratelli ottanta dei figlioli di Uziel Amminadab il capo e i suoi fratelli centododici poi Davide chiamò i sacerdoti Zadò e Abiatar e i Leviti Urier Asaia Joer Shemaiah Elier e Amminadab e dice loro voi siete i capi delle casse patriarcali dei Leviti santificatevi voi e i vostri fratelli affinché possiate trasportare l'arca dell'Eterno dell'Idio di Israele nel luogo che io le ho preparato siccome voi non c'eravate la prima volta l'Eterno il nostro Dio fece una breccia fra noi poiché noi lo cercammo secondo le regole stabilite i sacerdoti e i Leviti dunque si santificarono per trasportare l'arca dell'Eterno delle Dio di Israele e i figlioli dei Leviti portarono l'arca di Dio sulle loro spalle per mezzo di stange come Mosè aveva ordinato secondo la parola dell'Eterno e Davide ordinò ai capi dei Leviti che chiamassero i loro fratelli cantori a prestare servizio con i loro strumenti musicali salteri cetre cimbali da ogni trarrebbero suoni vigorosi in segno di gioia i Leviti dunque chiamarono a prestare servizio Eman figliolo di Joel e fra i suoi fratelli Asà figliolo di Berechia tra i figlioli di Merari loro fratelli Eta figliolo di Cushaia con loro furono chiamati i loro fratelli del secondo ordine Zaccaria Ben Yaziel Shemiramot Jeiel Unni Elihab Benaya Maaseia Mattiaia Elifelehu Milkneia Obed Edom Egeliel Iportinai I cantori Eman Asaf Etan avevano dei cimbali di ram per suonare Zaccaria Aziel Shemiramot Jeiel Unni Elié Maaseia Benaia avevano dei salteri per accompagnare voci di fanciulle Mattia Mattia Elifehu Mik Neia Obed Edom Jeiel e Atasia suonavano con cetre all'ottava per guidare il canto Kenania capo dei leviti era preposto al canto e dirigeva la musica perché era competente in questo Berechia e Delcana erano portinai dell'arca Shebania Josafat Etneher Eman Zaccaria Benaia e Eliezer sacerdote suonavano la tromba davanti all'arca di Dio e Obed Edom e Jeiel erano i portinai dell'arca Davide gli anziani di Israele i capi di Migliaia si misero in cammino per trasportare l'arca del patto dell'Eterno dalla casa di Obed Edom con Gaudio e poiché Dio prestò l'assistenza ai leviti che portavano l'arca del patto dell'Eterno fu offerto un sacrificio di sette giovenchi e di sette montoni Davide indossava un manto di lino fino come anche tutti i leviti che portavano l'arca i cantori e Kenania capo della musica fra i cantori e Davide aveva sul manto un nefo di lino così tutto Israele portò sull'arca del patto dell'Eterno con grida di gioia e suoni di corni di trombe di cembre di salteri di arpe e come l'arca del patto dell'Eterno giunse alla città di Davide Michal figliola di Sao guardava dalla finestra e vedendo il re che danzava e saltava lo disprezzò in cuor suo primo libro delle cronache capitolo sedicesimo portaron dunque l'arca di Dio e la collocarono in mezzo al padiglione che Davide aveva rizzato per lei e si offrirono olocausti e sacrifici di azioni di grazia dinanzi a Dio e quando Davide ebbe finito di offrire gli olocausti e sacrifici di azioni di grazia e benedisse il popolo nel nome dell'Eterno e distribuì a tutti gli israeliti uomini e donne un pane per uno e una porzione di carne e un dolce ed uva secca poi stabilì davanti all'arca dell'Eterno alcuni di fra i leviti per fare il servizio per ringraziare lodare e celebrare l'Eterno l'Idio di Israele erano Asaf il capo Zaccaria il secondo dopo di lui poi Jeihel Shamiramot Jeihel Matti Fia Eliab Benahia Obed Edom e Jeihel essi suonavano salteri eccetera e Asaf sonava i cembali i sacerdoti Benahia e Yahezihel suonavano di continuo la tromba davanti all'arca del patto di Dio allora in quel giorno Davide diede per la prima volta ad Asaf e ai suoi fratelli l'incarico di cantare le lodi dell'Eterno celebrate l'Eterno invocate il suo nome fate conoscere le sue geste fra i popoli cantateli salmeggiati mandate su tutte le sue meraviglie gloriatevi del santo suo nome si rallegra il cuore di quelli che cercano l'Eterno cercate l'Eterno e la sua forza cercate del continuo la sua faccia ricordatevi delle meraviglie che gli ha fatti dei suoi miracoli e dei giudizi della sua bocca o voi progeni di Israele suo servitore figliore di Giacobbe i suoi eletti egli l'Eterno è l'Idio nostro i suoi giudizi esercitano su tutta la terra ricordatevi in perpetuo del suo patto della parola da lui data per mille generazioni del patto che fece con Abrahamo che girò a Isacco che confermò a Giacobbe come uno statuto ad Israele come un patto eterno dicendo io ti darò il paese di Canaan per vostra parte di eredità non erano allora che poca gente pochissimi stranieri nel paese e andavano da una nazione all'altra da un regno a un altro popolo egli non permise che alcuno li opprimesse anzi castigò dei re per amor loro dicendo non toccate i miei unti e non fate alcun male ai miei profeti cantate all'Eterno abitanti di tutta la terra annunziate di giorno in giorno la sua salvezza raccontate la sua gloria fra le nazioni e le sue meraviglie fra tutti i popoli poiché l'Eterno è grande e degno di sovranalode egli è tremendo sopra tutti gli dèi poiché tutti gli dèi dei popoli sono idoli vani ma l'Eterno ha fatto i cieli splendore e maestà stanno dinanzi a lui forza e gioia sono nella sua dimora date all'Eterno famiglie dei popoli date all'Eterno gloria e forza date all'Eterno la gloria dovuta al suo nome portateli offerte e veniti in sua presenza prostratevi dinanzi all'Eterno vestiti di sacri ornamenti tremati dinanzi a lui o abitanti di tutta la terra il mondo è stabile e non sarà smosso si rallegrano i cieli e gioisca la terra dicasi fra le nazioni l'Eterno regna risuoni il mare anch'esso e in tutto ciò che esso contiene festeggi la campagna e tutto quello che è in essa gli alberi delle foreste lian voci di gioia nel cospetto dell'Eterno poiché gli viene a giudicare la terra celebrate l'Eterno perché egli è buono e perché la sua benignità dura in perpetuo e dite salvaci o Dio della nostra salvezza raccoglirci fra le nazioni liberci affinché celebriamo il tuo santo nome e mettiamo la nostra gloria nell'odarti benedetto sia l'Eterno il Dio di Israele da eternità in eternità e tutto il popolo disse Amen e lodò l'Eterno poi Davide lasciò qui davanti all'arca del patto dell'Eterno Asaf e i suoi fratelli perché fossero del continuo di servizio davanti all'arca secondo i bisogni di ogni giorno lasciò Obed Edom e Hosa e i loro fratelli il numero di settantotto Obed Edom figliolo di Jeduhum e Hosa come portieri lasciò pure il sacerdote Tzadok e il sacerdote e i suoi fratelli davanti al tabernacolo dell'Eterno sull'alto luogo che era Gabaun perché offrissero del continuo all'Eterno lo causti mattina e sera sull'altare degli Olocaschi ed eseguissero tutto quello che sta scritto nella legge data all'Eterno di Israele e con essi erano Eman Jeduthut e gli altri che erano stati scelti e destinati nominatamente per lodare l'Eterno perché la sua benignità dura in perpetuo Eman e Jeduthun erano con essi con le trombe scembali per i musici e con gli strumenti per i cantici in lode di Dio i figlioli di Jeduthun erano adatti alla porta tutto il popolo se ne andò ciascuno a casa sua e Davide se ne ritornò per benedire la propria casa primo libro delle cronache capitolo dicesettesimo Ora venne che Davide quando si fu stabilito nella sua casa disse al profeta Natan Ecco io abito in una casa di cedro e l'arca del patto dell'Eterno sta sotto una tenda Natan rispose a Davide fa tutto quello che hai in cuore di fare poiché Dio è teco ma quella stessa notte la parola di Dio fu diretta a Natan in questi termini va e di al mio servo Davide così dice l'Eterno non sarai tu quelli che mi edificherà una casa perché io vi dimori poiché io non ho abitato in una casa dal giorno che trassi Israele dall'Egitto fino al di d'oggi ma sono andato di tenda in tenda di dimora in dimora dovunque sono andato or qua or là in mezzo a tutto Israele ho io mai fatto parola ad alcuno dei giudici di Israele al quale avevo comandato di pascere il mio popolo dicendogli perché non mi edificate una casa di cedro or dunque parlerai così al mio servo Davide così dice l'Eterno degli eserciti io ti presi dall'ovile di dietro alle pecore perché tu fossi il principe di Israele mio popolo e sono stato te ovunque sei andato ho sterminato dinanzi a te tutti i tuoi nemici e ho reso il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra ho assegnato un posto ad Israele il mio popolo e ve l'ho piantato perché abiti in casa sua e non sia più agitato né seguitano gli iniqui a farne scempio come prima e fin dal tempo in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo di Israele io ho umiliato tutti i tuoi nemici e t'annunzio che l'Eterno ti fonderà una casa quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu ti andrai raggiungere i tuoi padri io innalzerò al trono dopo di te la tua progenia uno dei tuoi figlioli e stabilirò saldamente il suo regno egli mi edificherà una casa ed io renderò stabile in perpetuo il suo trono io sarò per lui un padre ed egli mi sarà figliolo e non gli ritirerò la mia grazia come l'ho ritirata da colui che t'ha preceduto io lo renderò saldo per sempre nella mia casa e nel mio regno e il suo trono sarà reso stabile in perpetuo Nathan parlò a Davide secondo tutte queste parole e secondo tutta questa visione allora il re Davide andò a presentarsi davanti all'Eterno e disse chi sono io o Eterno Dio e che è la mia casa che tu n'abbia fatto arrivare fino a questo punto e questo è parso ancora poca cosa agli occhi tuoi o Dio e tu hai parlato anche della casa del tuo servo per un lontano avvenire hai designato considerarmi come se fossi un uomo d'alto grado o Eterno di Dio come potrebbe Davide dirti di più riguardo all'amore che è fatto al tuo servo tu conosci il tuo servo o Eterno per amore del tuo servo e secondo il cuore tuo hai compiuto tutte queste grandi cose per rivelargli tutte le tue meraviglie o Eterno nessuno è pari a te e non ve altro Dio fuori di te secondo tutto quello che abbiamo udito con i nostri orecchi e qual popolo è come il tuo popolo Israele l'unica nazione sulla terra che Dio sia venuto a redimere per formarne il suo popolo per farti un nome e per compiere cose grandi e tremende cacciando delle nazioni dinanzi al tuo popolo che tu hai redento dall'Egitto tu hai fatto del tuo popolo di Israele il popolo tuo speciale in perpetuo e tu o Eterno sei divenuto il suo Dio or dunque o Eterno la parola che tu hai pronunziata riguardo al tuo servo e alla sua casa rimanga stabile in perpetuo e fa come tu hai detto sì rimanga stabile affinché il tuo nome sia magnificato in perpetuo e si dica l'Eterno degli eserciti di Dio di Israele è veramente un Dio per Israele e la casa del suo servo Davide sia stabile dinanzi a te poiché tu stesso o mio Dio hai rivelato al tuo servo di voler rifondare una casa perciò il tuo servo ha preso l'ardire di rivolgerti questa preghiera ed ora o Eterno tu sei Dio e hai promesso questo bene al tuo servo piacciati dunque benedire ora la casa del tuo servo affinché ella sussista in perpetuo dinanzi a te poiché ciò che tu benedici o Eterno è benedetto in perpetuo in perpetuo primo libro delle cronache capitolo diciottesimo dopo queste cose Davide sconfisse i filistei e li umiliò e li tolse di mano i filistei Gath e le città che ne dipendevano sconfisse pure i Moabiti e i Moabiti divennero sudditi e tributari di Davide Davide sconfisse anche ad Araser re di Zoba verso Amat mentre gli andava a stabilire il suo dominio sul fiume Eufrate Davide gli prese mille carri sette mila cavalieri e ventimila pedoni tagliò i garretti a tutti i cavalli da tiro ma riservò dei cavalli per cento carri e quando i siri di Damasco vennero per soccorrere ad Araser re di Zoba Davide ne uccise ventiduemila poi Davide mise delle guarnigioni nella Siria di Damasco e i siri divennero sudditi e tributari di Davide e l'Eterno lo rendea vittorioso dovunque gli andava e Davide tolse ai servi di Adar-Ezer i loro scudi d'oro e li portò a Gerusalemme Davide prese anche una grande quantità di rame a Tibat e a Cun città di Adar-Ezer Salomone e se ne servì per fare il mare di rame le colonne e gli utensili di rame or quando Tau re di Amat ebbe udito che Davide aveva sconfitto tutto l'esercito di Adar-Ezer re di Zoba mandò al re Davide Adoram suo figliuolo per salutarlo e per benedirlo perché aveva messo guerra a Adar-Ezer e l'aveva sconfitto Adar-Ezer era sempre in guerra con Tau e Adoram portò seco ogni sorta di vasi d'oro d'argento di rame e il re Davide consacrò anche quelli all'Eterno come aveva già consacrato l'argento e l'oro che aveva portato via a tutte le nazioni agli Edomiti ai Moabiti agli Ammoniti ai Filistei e agli Ammalekiti Abishai figliuolo di Zeruia sconfisse pure diciotto mila Edomiti nella valle del sale e posse delle guarnigioni in Idumea e tutti gli Edomiti divennero sudditi di Davide e l'Eterno rendea Davide vittorioso dovunque gli andava Davide regnò su tutto Israele facendo ragione e amministrando la giustizia a tutto il suo popolo Joab figliuolo di Zeruia comandava l'esercito Josafat figliuolo di Ailud era cancelliere e Tzadok figliuolo di Haitub e Abimelech figliuolo di Abiatar erano sacerdoti Shafsa era segretario e Benaia figliuolo di Geoiada era capo dei Keretei e dei Peretei e i figlioli di Davide erano i primi a fianco del Re Primo Libro delle Cronache Capitolo Diciannovesimo Ora venne dopo queste cose che Nahash re dei figliuoli di Amon morì e il suo figliuolo regnò in luogo di lui Davide disse io voglio usare benevolenza verso Nanun figliuolo di Nahash perché suo padre ne usò verso di me e Davide inviò dei messi a consolarlo della perdita del padre ma quando i servi di Davide furono giunti nel paese dei figlioli di Amon presso Anun per consolarlo i principi dei figlioli di Amon dissero a Nahash credi tu che Davide t'abbia mandato dei consolatori per onorare tuo padre i suoi servi non sono essi piuttosto venuti per esplorare la città e distruggerla e per spiare il paese allora Anun prese i servi di Davide li fece radere e fece loro tagliare la metà delle vesti fino alle natiche poi le rimandò intanto vennero alcune ad informare Davide del modo con cui quegli uomini erano stati trattati e Davide mandò gente ad incontrarli perché essi erano ultramondo confusi e il re fece dir loro restate a Gerico finché vi sia ricresciuta la barba poi tornerete i figlioli di Amon videro che si erano attirati l'odio di Davide e Hanum e gli Amoniti mandarono mille talenti d'argento per prendere al loro soldo dei carri e dei cavalieri presso i siri di Mesopotania e presso i siri di Maacca e di Zoba e presero al loro soldo trentadue mila carri e il re di Maacca col suo popolo i quali vennero ad accamparsi di rimpetto a Medeba e i figlioli di Amon si radunarono nelle loro città per andare a combattere quando Davide udì questo inviò contro di loro Joab e tutto l'esercito degli uomini di valore i figlioli di Amon uscirono e si disposero in ordine di battaglia alla porta della città e i re che erano venuti in loro soccorso stavano a parte nella campagna or come Joab vide che quelli erano pronti ad attaccarlo di fronte alle spalle scelse un corpo fra gli uomini migliori di Israele lo dispose in ordine di battaglia contro i siri e mise il resto del popolo sotto gli ordini del suo fratello Abishai che li dispose di fronte ai figlioli di Amon e disse ad Abishai se i siri sono più forti di me tu mi darei soccorso e se i figlioli di Amon sono più forti di te andrò io a soccorrerti abbi coraggio e dimostriamoci forte per il nostro popolo e per la città del nostro Dio e faccia all'Eterno quello che a lui piacerà poi Joab con la gente che aveva seco s'avanzò per attaccare i siri i quali fuggirono dinanzi a lui e come figlioli di Amon videro che i siri erano fuggiti fuggirono anch'essi dinanzi ad Abishai fratello di Joab e rientrarono nella città allora Joab se ne tornò a Gerusalemme e i siri vedendosi sconfitti da Israele inviarono dei messi e fecero venire i siri che abitavano di là dal fiume Shofak capo dell'esercito di Adarezer era alla loro testa la cosa fu riferita Davide che radunò tutto Israele passò il Giordano marciò contro di loro e si dispose in ordine di battaglia contro ad essi e come Davide si fu disposto in ordine di battaglia contro i siri questi impegnarono l'azione con lui ma i siri fuggirono dinanzi a Israele e Davide uccise ai siri gli uomini di settecento carri e quarantamila fanti e uccise pure Shofak capo dell'esercito e quando i servi di Adarezer si videro sconfitti da Israele fecero pace con Davide e furono a lui soggetti e i siri non volero più recar soccorso ai figliuoli di Amon primo cronache capitolo ventesimo ora avvenne che l'anno seguente nel tempo in cui i re sogliono andare alla guerra Joab alla testa di un poderoso esercito andò a devastare il paese dei figliuoli di Amon ed assediare Rabba ma Davide rimase a Gerusalemme e Joab batte Rabba e la distrusse e Davide tolse dalla testa dell'orore la corona e trovò che pesava un talento d'oro e che aveva delle pietre preziose ed essa fu posta sulla testa di Davide egli riportò anche dalla città grandissima preda e fece uscire gli abitanti che erano nella città e li fece a pezzi con delle seghe e degli erpici di ferro e delle scuri così fece Davide a tutte le città dei figliuoli di Amon poi Davide se ne tornò a Gerusalemme con tutto il popolo dopo queste cose ci fu una battaglia coi filistei a Gesar allora Shibakai di Ushas uccise Sipai uno dei discendenti di Rafa e i filistei furono umiliati ci fu un'altra battaglia con i filistei ed El Hanan figliuolo di Jair uccise Lami fratello di Golia di Gath di cui l'asta della lancia era come un subio da tessitore ci fu ancora una battaglia a Gath dove si trovò un uomo di grande statura che aveva sei dita a ciascun mano e a ciascun piede in tutto ventiquattro dita e che era anch'esso dei discendenti di Rafa egli ingiuriò Israele e Jonathan figliuolo di Shimea fratello di Davide l'uccise questi quattro uomini erano nati a Gath della stirpe di Rafa e si perirono per man di Davide e per man della sua gente primo cronache capitolo ventunesimo or Satana si levò contro Israele e incitò Davide a fare il censimento di Israele e Davide disse a Gioab e a capi del popolo andate fate il censimento degli israeliti da Beersheba fino a Adam e venite a riferirmi nel risultato perché io ne sappia il numero Gioab rispose l'Eterno renda il suo popolo cento volte più numeroso di quello che è ma o re mio signore non sono essi tutti i servi del mio signore perché il mio signore domanda egli questo perché rendere così Israele colpevole ma l'ordine del re prevalse contro Gioab Gioab dunque partì percorse tutto Israele poi tornò a Gerusalemme e Gioab rimise a Davide la cifra del censimento del popolo c'erano in tutto Israele un milione e centomila uomini atti a portare le armi e in Giuda quattrocentosettantamila uomini atti a portare le armi o Gioab non aveva fatto il censimento di Levi e di Beniamino come tutti gli altri perché l'ordine del re era per lui abominevole questa cosa dispiacque a Dio che perciò colpì Israele e Davide disse a Dio io ho gravemente peccato in questo che ho fatto ma ora ti prego perdona l'iniquità del tuo servo perché io ho agito con grande stoltezza e l'Eterno parlò così a Gad il veggente di Davide va e parla Davide in questo modo così dice l'Eterno io ti propongo tre cose scegliene una e quella ti farò Gad andò dunque da Davide e gli disse così dice l'Eterno scegli dunque che vuoi o tre anni di carestia o tre mesi durante i quali i tuoi avversari facciano scempio di te e ti raggiunga la spada dei tuoi nemici ovvero tre giorni di spada dell'Eterno ossia di peste nel paese durante i quali l'Angelo dell'Eterno porterà la distruzione in tutto il territorio di Israele or dunque vedi che cosa io debba rispondere a colui che mi ha mandato e Davide disse a Gad io sono in una grande angoscia ebbene che io cada nelle mani dell'Eterno giacché le sue compassioni sono immense ma che io non cada nelle mani degli uomini così l'Eterno mandò la peste in Israele e cadero settantamila persone di Israele e Dio mandò un angelo a Gerusalemme per distruggerla e come questi si disponeva a distruggerla l'Eterno gettò su di lei lo sguardo e si pentì della calamità che aveva inflitta e disse all'angelo distruttore basta ritieni ora la tua mano or l'angelo dell'Eterno si trovava presso l'aria di Ornan il Gebuseo e Davide alzando gli occhi vide l'angelo dell'Eterno che stava fra terra e cielo avendo in mano una spada sguainata avvolta contro Gerusalemme allora Davide e gli anziani coperti di sacchi si gettarono con la faccia a terra e Davide disse a Dio non sono io quelli che ordinai il censimento del popolo sono io che ho peccato e che ho agito con tanta malvagità ma queste pecore che hanno fatto ti prego o Eterno mio Dio si volga la tua mano contro di me e contro la casa di mio padre ma non contro il tuo popolo per colpirlo col flagello allora l'angelo dell'Eterno ordinò a Gad di dire a Davide che salisse a erigere un altare all'Eterno nell'aia di Ornan il Gebuseo Davide salì secondo la parola di Gad ed ecco che Ornan voltandosi vide l'angelo e i suoi quattro figliuoli erano con lui e si nascossero Ornan stava battendo il grano e come Davide giunse presso Ornan Ornan guardò e vide Davide e uscito dall'aia si prostrò dinanzi a Davide con la faccia a terra allora Davide disse a Ornan dammi il sito di quest'aia perché io vi eriga un altare all'Eterno dammelo per tutto il prezzo che vale affinché la piaga cessi di infierire sul popolo Ornan disse a Davide prenditelo e il re mio signore faccia quello che per bene agli occhi suoi guarda io ti do i buoi per gli olocausti le macchine da trebbiare per legna e il grano per l'oblazione tutto ti do ma il re Davide disse ad Ornan no io comprerò da te queste cose per il loro intero prezzo giacché io non prenderò per l'Eterno ciò che tuo ne offrirò un olocausto che non mi costi nulla e Davide diede a Ornan come prezzo del luogo il peso di 600 sicli d'oro poi edificò qui un altare all'Eterno offrì olocausti e sacrifici di azioni di grazie ed invocò l'Eterno il quale gli rispose mediante il fuoco che discesse dal cielo sull'altare dell'olocausto poi l'Eterno comandò all'angelo di rimettere la spada nel fodero in quel tempo Davide vedendo che l'Eterno lo aveva esaudito nell'area di Ornan e Gebuseo gli offriva dei sacrifici il tabernacolo dell'Eterno che Mosè aveva costruito nel deserto e l'altare degli olocausti si trovavano allora sull'alto luogo di Gabaon e Davide non poteva andare davanti a quell'altare a cercare Dio per lo spavento che gli aveva cagionato la spada dell'angelo dell'Eterno primo libro delle cronache capitolo ventiduesimo e Davide disse qui sarà la casa di Dio dell'Eterno e qui sarà l'altare degli olocausti per Israele Davide ordinò che si radunassero gli stranieri che erano nel paese di Israele e fissò degli scarpellini per lavorare le pietre da taglio per la costruzione della casa di Dio Davide preparò pure del ferro in abbondanza per i chiodi per i battenti delle porte per le commettiture e una quantità di rame di peso incalcolabile e delle gnambe di cedro da non potersi contare perché i sidoni e i tiri avevano portato a Davide delle gnambe di cedro in abbondanza Davide diceva Salomone mio figliuolo è giovane e di tenera età e la casa che si deve edificare all'Eterno ha da essere talmente magnifica da salire in fama e in gloria e in tutti i paesi io voglio dunque far dei preparativi per lui così Davide preparò degli abbondanti materiali prima di morire poi chiamò Salomone suo figliuolo e gli ordinò di edificare una casa all'Eterno all'Idio di Israele Davide disse a Salomone figliuolo mio io stesso avevo in cuore di edificare una casa al nome dell'Eterno del mio Dio ma la parola dell'Eterno mi fu ravvolta e mi fu detto tu hai sparso molto sangue e hai fatto di gran guerre tu non edificherai una casa al mio nome poiché hai sparso molto sangue sulla terra dinanzi a me ma ecco ti nascerà un figliuolo che sarà uomo tranquillo e io li darò quiete liberandolo da tutti i suoi nemici di ogni intorno Salomone sarà il suo nome e io darò pace e tranquillità a Israele durante la vita di lui egli edificherà una casa al mio nome e mi sarà figliuolo ed io gli sarò padre e renderò stabile il trono del suo regno sopra Israele in perpetuo ora figliuolo mio l'Eterno sia teco onde tu prosperi ed edifichi la casa dell'Eterno del tuo Dio secondo che egli ha detto di te sol diati l'Eterno senno e intelligenza e ti costituisca re di Israele per osservare la legge dell'Eterno del tuo Dio allora prospererai se tu applichi a mettere in pratica le leggi e i progetti che l'Eterno prescrisse a Mosè per Israele sii forte e fatti animo non temere e non ti sgomentare ora ecco io con le mie fatiche ho preparato per la cassa dell'Eterno centomila talenti d'oro un milione di talenti d'argento e una quantità di rame di ferro da non potersi pesare tanto e abbondante ho pur preparato del legname e delle pietre e tutte ne potrai aggiungere ancora e tu hai presso di te degli operai in abbondanza degli scarpellini dei muratori dei falegnami ed ogni sorta di uomini esperti in qualunque specie di lavoro quanto all'oro all'argento al rame al ferro ve ne è una quantità incalcolabile levati dunque mettiti all'opera e l'Eterno siateco Davide ordinò pure a tutti i capi di Israele ad aiutare Salomone suo figliolo e disse loro l'Eterno lì Dio vostro non è Egli con voi e non va Egli dato quiete d'ogni intorno infatti Egli ma dato nelle mani gli abitanti del paese e il paese è assoggettato all'Eterno e al suo popolo disponete dunque il vostro cuore e l'anima vostra a cercare l'Eterno che è il vostro Dio poi levatevi e costruite il santuario dell'Eterno lì Dio per trasferire l'arca del patto dell'Eterno e gli utensili consacrati a Dio nella casa che deve essere edificata al nome dell'Eterno primo cronache capitolo ventitresimo Davide vecchio e sazio di giorni stabilì Salomone suo figliuolo re di Israele e radunò tutti i capi di Israele i sacerdoti e i leviti e fu fatto un censimento dei leviti dall'età di trent'anni in su e contati testa per testa uomo per uomo il loro numero risultò di trentottomila Davide disse ventiquattromila di questi siano addetti a dirigere l'opera della casa dell'Eterno seimila siano magistrati e giudici e quattromila siano portinai e quattromila celebrano l'Eterno con gli strumenti che io ho fatti per celebrarlo Davide li divise in classi secondo i figliuoli di Levi Gershon dei Gershoniti Laedam e Shimei figliuoli di Laedam il capo Jeihel Zetam Joel tre e figliuoli di Shimei Shelomit Aziel Aram tre questi sono i capi delle famiglie patriarcali di Laedam e figliuoli di Shimei Jatat Zina Jehush e Baria questi sono i quattro figliuoli di Shimei Jahat era il capo Zina il secondo Jehush e Baria non ebbero molti figliuoli e nel censimento formarono una sola casa patriarcale i figliuoli di Keat Amran Yesethar Ebron Usiel 4 i figliuoli di Amram Aronne e Mosè Aronne fu appartato per essere consacrato come Santissimo egli coi suoi figliuoli in perpetuo per offrire i profumi dinanzi all'Eterno per ministrarli e per pronunziare in perpetuo la benedizione del nome di lui quanto a Mosè l'uomo di Dio i suoi figliuoli furono contati nella tribù di Levi i figliuoli di Mosè Gershon e Eliezer i figliuoli di Gershon Shebuel il capo e i figliuoli di Eliezer furono Reabia il capo Eliezer non ebbe altri figliuoli ma i figliuoli di Reabia furono numerosissimi i figliuoli di Ezechar Shelomit il capo i figliuoli di Ebron Gerigia il capo Amaria il secondo Jasiel il terzo e Gekah Meham il quarto i figliuoli di Uzziel Mica il capo Iscia il secondo i figliuoli di Merari Mali e Musi i figliuoli di Mali Eleazar e Kis Eleazar morì e non ebbe figliuoli ma solo delle figliuole e le sposarono i figliuoli di Kis loro parenti i figliuoli di Musi Mahali Eder e Geromot tre questi sono i figliuoli di Levi secondo le loro casse patriarcali i capi famiglia secondo il censimento fatto contando i nomi testa per testa essi erano addetti a fare il servizio della casse dell'Eterno dall'età di vent'anni in su poiché Davide aveva detto e l'Eterno l'Idio di Israele ha dato riposo al suo popolo ed esso è venuto a stabilirsi a Gerusalemme per sempre e anche i Leviti non avranno più bisogno di portare il tabernacolo e tutti gli utensili per il suo servizio fu secondo le ultime disposizioni di Davide che il censimento dei figliuoli di Levi si fece dai vent'anni in su posti presso ai figliuoli d'Aronne per il servizio della casa dell'Eterno essi avevano l'incarico dei cortili delle camere della purificazione di tutte le cose sacre dell'opera relativa al servizio della casa di Dio dei panni della presentazione del fior di farina per le offerte delle focacce non lievitate delle cose da cuocere sulla gratella di quelle da friggere e di tutte le misure di capacità e di lunghezza dovevano presentarsi ogni mattina e ogni sera per lodare e celebrare l'Eterno e per offrire del continuo davanti all'Eterno tutti gli olocausti secondo il numero prescritto dalla loro legge per i sabati per i nuovi luni e per le feste solenni e dovevano prendere cura della tenda di convegno del santuario e stare agli ordini dei figliuoli d'Aronne loro fratelli per il servizio della casa dell'Eterno Primo libro delle cronache Capitolo ventiquattresimo Le classi dei figliuoli d'Aronne furono queste I figliuoli d'Aronne Nadab Abihu Eleazar Itamar Nadab e Abihu morirono prima del loro padre e non ebbero figliuoli Eleazar e Itamar esercitarono il sacerdozio Or Davide con Sadok dei figliuoli di Eleazar e con Ahimelech dei figliuoli di Itamar classificò i figliuoli d'Aronne secondo il servizio che dovevano fare Tra i figliuoli di Eleazar si trovavano più capi di famiglie che tra i figliuoli di Itamar e furono divisi così Per i figliuoli di Eleazar sedici capi di famiglie patriarcali Per i figliuoli di Itamar otto capi delle famiglie patriarcali La classificazione fu fatta a sorte tanto per gli uni quanto per gli altri perché verranno dei principi del santuario e dei principi di Dio tanto fra i figliuoli di Eleazar quanto fra i figliuoli di Itamar Shemaia figliuoli di Natnael il segretario che era della tribù di Levi li iscrisse in presenza del re e dei principi e in presenza del sacerdote Tzadò di Ahimelech figliuoli di Abiatar e in presenza dei capi delle famiglie patriarcali Arrakots l'ottavo Abijah il nono Jeshua il decimo Shekaniah l'undicesimo Eliashib il dodicesimo Jaqin il tredicesimo Huppah il quattordicesimo Gesheabin il quindicesimo Bilga il sedicesimo Immer il diciassettesimo Esir il diciottesimo Apitzet il diciannovesimo Petaniah il ventesimo Ezechiele il ventunesimo Jaqin il ventiduesimo Gamul il ventitreesimo Delaia il ventiquattresimo Masia così furono classificati per il loro servizio affinché entrassero nella casa dell'Eterno secondo la regola stabilita per loro da Aaron e loro padre e che l'Eterno l'Idio di Israele li aveva prescritta quanto al rimanente dei figlioli di Levi questi ne furono i capi dei figlioli di Amram Shubael dei figlioli di Shubael Gedia di Reabia dei figlioli di Reabia il capo Aishia degli Jezeriti Shelomot e dei figlioli di Shelomot Jahat dei figlioli di Ebro Gericia a Maria a Maria il secondo Jaziel il terzo Jekamiam il quarto dei figlioli di Uziel Mika dei figlioli di Mika Shamir fratello di Mika di Ascia dei figlioli di Ascia Zaccaria figlioli di Merari Mali e Mushi e i figlioli di Jazia suo figliolo vale a dire i figlioli di Merari per il tramite di Jazia suo fratello Shoham Zaccur e Ibri di Mahali e Leazar che non ebbe figlioli di Chis i figlioli di Chis Geram Miil figlioli di Muschi Mali Eder e Gerimoth questi sono i figlioli dei Leviti secondo le loro case patriarcali anch'essi come i figlioli di Aronne loro fratelli tirarono assorte in presenza del re Davide di Zadok di Ahimelech e dei capi delle famiglie patriarcali dei sacerdoti e dei Leviti ogni capo di famiglia patriarcale tirò assorte nello stesso modo che il fratello più giovane di lui primo libro delle cronache capitolo venticinquesimo poi Davide e i capi dell'esercito appartarono per il servizio quelli dei figlioli di Asaf di Emma di Gedutum che cantavano gli Inisatri accompagnandosi con cetre con salteri con cembali e questo è il numero di quelli che furono incaricati di questo servizio dei figlioli di Asaf Zacur Giosef Natania Azarella figlioli di Asaf sotto la direzione di Asaf che cantava gli Inisatri seguendo le istruzioni del re di Gedutum i figlioli di Gedutum Gedalia Tseri Isaia Yashabia Yashabia Mattitia e Shimei sei sotto la direzione del loro padre Gedutum che cantava gli Inisatri con la cetra per lodare e celebrare l'Eterno di Eman i figlioli di Eman Tutti questi erano figlioli di Eman veggente del re secondo la promessa di Dio di accrescere la potenza di Eman Dio infatti aveva dato a Eman quattordici figlioli e tre figliole tutti questi erano sotto la direzione dei loro padri per il canto della casa dell'Eterno ed avevano dei cembali dei salteri delle cetre per il servizio della casa di Dio erano sotto la direzione del re di Asaf di Gedutum e di Eman il loro numero compresi i loro fratelli istruiti nel canto in onore dell'Eterno tutti quelli cioè che erano esperti in questo ascendeva a duecentottantotto tirarono a sorte il loro ordine di servizio tanto i piccoli quanto i grandi tanto i maestri quanto i discepoli il primo designato dalla sorte per Asaf fu Giosef il secondo Gedalia con i suoi fratelli e i suoi figlioli dodici in tutto il terzo fu Zaccur con i suoi figlioli e i suoi fratelli dodici in tutto il quarto fu Gezzeri con i suoi figlioli e i suoi fratelli dodici in tutto il quinto fu Netania con i suoi figlioli e i suoi fratelli dodici in tutto il sesto fu Bucchia con i suoi figlioli e i suoi fratelli dodici in tutto il settimo fu Gesarella con i suoi figlioli e i suoi fratelli dodici in tutto l'ottavo fu Isaia con i suoi figlioli e i suoi fratelli dodici in tutto il nono fu Matania con i suoi figlioli i suoi fratelli, dodici in tutto. Il decimo fu Shimei coi suoi figlioli e suoi fratelli, dodici in tutto. L'undecimo fu Asarel coi suoi figlioli e suoi fratelli, dodici in tutto. E il dodicesimo Ashabia coi suoi figlioli e suoi fratelli, dodici in tutto. E il tredicesimo fu Shabuel coi suoi figlioli e suoi fratelli, dodici in tutto. Il quattordicesimo fu Matatia con i suoi figlioli e i suoi fratelli, dodici in tutto. Il quindicesimo fu Jeremoth con i suoi figlioli e i suoi fratelli, dodici in tutto. Il sedicesimo fu Anania con i suoi figlioli e i suoi fratelli, dodici in tutto. Il diciassettesimo fu Joshekebasha con i suoi figlioli e i suoi fratelli, dodici in tutto. e diciottesimo fu Anani coi suoi figlioli e suoi fratelli dodici in tutto il diciannovesimo fu Alloti coi suoi figlioli e suoi fratelli dodici in tutto il ventesimo fu Eliata coi suoi figlioli e suoi fratelli dodici in tutto il ventunesimo fu Othir coi suoi figlioli e suoi fratelli dodici in tutto Il ventiduesimo fu Ghidalti, con i suoi figlioli e i suoi fratelli, dodici in tutto. Il ventesimo terzo fu Mahatziot, con i suoi figlioli e i suoi fratelli, dodici in tutto. Il ventesimo quarto fu Romati Ezer, con i suoi figlioli e i suoi fratelli, dodici in tutto. Primo libro delle cronache, capitolo ventisesimo. Quanto alle classi dei Portinai, verano Coraiti, Mescelemia, figliolo di Core, dei figlioli di Asaf, e figlioli di Mescelemia, Zaccaria il primo genito, Gediel il secondo, Zebadia il terzo, Gedniel il quarto, Elam il quinto, Giohanam il sesto, Elioenai il settimo, figlioli di Obed-Edom, Shemaia il primo genito, Gioseb-Edad il secondo, Gioha il terzo, Zaccar il quarto, Netanel il quinto, Amiel il sesto, Isaccar il settimo, Peul et Hai l'ottavo, poiché Dio l'aveva benedetto, e a Shemaia suo figliolo nacquero dei figlioli che signoreggiarono sulla casa del padre loro, perché erano uomini forti e valorosi. Figlioli di Shemaia, Otni, Rif-Fael, Obed, Elzebad, e i suoi fratelli, uomini valorosi, Elihu e Semachia. Tutti questi erano figlioli di Obed-Edom, essi, i figlioli e i loro fratelli, erano uomini valenti e pieni di forza per il servizio, sessantadue di Obed-Edom. Mescelemia ebbe figlioli fratelli, uomini valenti, numero di diciotto, Osa dei figlioli di Merari ebbe per figlioli Scimri, il capo che il padre aveva fatto capo, quantunque non fosse il primo genito, il Chia il secondo, Tebalia il terzo, Zaccaria il quarto. Tutti i figlioli e i fratelli di Osa erano il numero di tredici. A queste classi di portinai, ai capi di questi uomini, come anche ai loro fratelli, fu affidato l'incarico del servizio della casa dell'Eterno, e tirarono a sorte per ciascuna porta, i più piccoli come i più grandi, nell'ordine delle loro case patriarcali. Per il lato d'oriente, la sorte disegnò Scelemia, si tirò poi a sorte per Zaccaria, suo figliolo, che era un consigliere di seno, e la sorte disegnò lui per il lato di Setentrione. Per il lato di Mezzogiorno, la sorte disegnò Obed-Edom, e per i magazzini disegnò i suoi figlioli. Per il lato d'occidente, per la porta Shaleket, sulla via che sale, la sorte disegnò Schupping e Osa. Erano due posti di guardia, uno di rimpeto all'altro. A oriente verano sei leviti, a Setentrione quattro per giorno, e mezzodì quattro per giorno, e quattro magazzini, due per ogni ingresso. A recinto del Tempio, a Occidente, ve ne erano addetti quattro per la strada, due per il recinto. Queste sono le classi dei portinai, scelti fra i figlioli di Core e i figlioli di Merari. I leviti loro fratelli erano preposti ai tesori della casa di Dio e ai tesori delle cose consacrate. I figlioli di Laedan, i figlioli dei Gershoniti, dicessi da Laedan, i capi delle casse patriarcali di Laedan, il Gershonita, cioè Jehieli, e i figlioli di Jehieli, Zetan e Joer, suo fratello, erano preposti ai tesori della casa dell'Eterno. Fra gli Amramiti, gli Gesariti, e gli Ebroniti, e gli Uzieliti. Shubuel, figliolo di Gershon, figliolo di Mosè, era sovrintendente dei tesori. Tra i suoi fratelli, per il tramite degli Esar, che ebbe per figliolo Rehabia, che ebbe per figliolo Isaia, che ebbe per figliolo Joram, che ebbe per figliolo Zikri, che ebbe per figliolo Shelomit, Questo Shelomit e i suoi fratelli erano preposti a tutti i tesori delle cose sacre che il re Davide, i capi delle case patriarcali, i capi di migliaia di centinaia, i capi dell'esercito, avevano consacrate, prelevandole dal bottino di guerra per il mantenimento della casa dell'Eterno, e a tutto quello che era stato consacrato da Samuele il Veggente, da Saul, figliolo di Kis, da Abner, figliolo di Ner, e da Joab, figliolo di Seuria, Chiunque consacrava qualche cosa, l'affidava nelle mani di Shelomit e dei suoi fratelli. Fra gli Yasseriti, Kenania e i suoi figlioli erano addetti agli affari estranei al Tempio, come magistrati giudici in Israele. Fra gli Ebroniti, Ashabia e i suoi fratelli, uomini valorosi in numero di 1600, furono preposti alla sorveglianza di Israele di qua dal Giordano e a Occidente per tutti gli affari che concernevano l'Eterno e per il servizio del re. Tra gli Ebroniti, circa gli Ebroniti, l'anno quarantesimo del regno di Davide e si fecero delle ricerche relative alle loro genealogie, secondo le loro case patriarcali, si trovarono fra loro degli uomini forti e valorosi a Jaeser in Galad. Verano il capo Ierria e i suoi fratelli, uomini valorosi in numero di 2700 capi di case patriarcali, e il re Davide affidò loro la sorveglianza dei Rubeniti, dei Gaditi, della mezza tribù di Menasse, per tutte le cose concernenti Dio e per tutti gli affari del re. Primo libro delle Cronache, capitolo ventisettesimo Ora, ecco i figlioli di Israele secondo il loro numero, i capi di famiglie patriarcali, i capi di migliaia, di scintinaia, i loro ufficiali al servizio del re, e per tutto quello che concerneva le divisioni che entravano e uscivano di servizio mese per mese, tutti i mesi dell'anno, ogni divisione, essendo di ventiquattro mila uomini. A capo della prima divisione per il primo mese stava Jashobbeam, figliolo di Zabdiel, e la sua divisione era di ventiquattro mila uomini. Egli era dei figlioli di Perez e capo di tutti gli ufficiali dell'esercito per il primo mese. A capo della divisione del secondo mese stava Dodai, lo Haohita, con la sua divisione. Milchilot era ufficiale superiore e la sua divisione era di ventiquattro mila uomini. Il capo della terza divisione per il terzo mese era Benaia, figliolo del sacerdote Geoiada, era capo, e la sua divisione noverava ventiquattro mila uomini. Questo Benaia era un prode fra i trenta e a capo dei trenta, e a Misabazio, figliolo, era ufficiale superiore della sua divisione. Il quarto per il quarto mese era Asahel, fratello di Joab, e dopo di lui Zabadia, suo figliolo, aveva una divisione di ventiquattro mila uomini. Il quinto per il quinto mese era il capo Shamuetut, il Yesarita, e aveva una divisione di ventiquattro mila uomini. Il sesto per il sesto mese era Ira, figliolo di Ikesh, il Tecoita, e aveva una divisione di ventiquattro mila uomini. Il settimo per il settimo mese era Eletz, il Pelonita, dei figlioli di Efraim, e aveva una divisione di ventiquattro mila uomini. L'ottavo per l'ottavo mese era Shibekailo, usciahita della famiglia di Zeraiti, e aveva una divisione di ventiquattro mila uomini. Il nono per il nono mese era Beezer da Anatot dei Beniaminiti, e aveva una divisione di ventiquattro mila uomini. Il decimo per il decimo mese era Manrai di Netofa, della famiglia degli Zeraiti, e aveva una divisione di ventiquattro mila uomini. L'undicesimo per l'undicesimo mese era Benahia di Piratot dei figlioli di Efraim, e aveva una divisione di ventiquattro mila uomini. Il dodicesimo per il dodicesimo mese era Eldai da Netofa della famiglia di Otniel, e aveva una divisione di ventiquattro mila uomini. Questi erano i capi delle tribù di Israele. Gerimot figliolo di Azariel, dei figlioli di Efraim, Osea figliolo di Azassia, della mezza tribù di Menasse, Joel figliolo di Pedahia, e della mezza tribù di Menasse, Ingalad, Iddo figliolo di Zaccaria, di Beniamino. Jaziel figliolo di Abner, di Dan, Azariel figliolo di Geroham, questi erano i capi delle tribù di Israele. Davide non fece il censimento di quei di Israele che erano in età di vent'anni in giù, perché l'Eterno aveva detto di moltiplicare Israele come le stelle del cielo. Joab figliolo di Zeruia aveva cominciato il censimento, ma non lo finì, e l'ira dell'Eterno piombo sopra Israele a motivo di questo censimento che non fu iscritto fra gli altri delle cronache del re Davide. Azmavet figliolo di Adier era preposto ai tesori del re, Jonathan figliolo di Uzziah ai tesori che erano nella campagna, nelle città, nei villaggi, nelle torri, Ezri figliolo di Kelub ai lavoratori della campagna per la cultura del suolo, Shimei da Rama alle vigne, Zabdi da Sefan al prodotto dei vigneti per fornire le cantine, Bal-Anam di Gedal agli oliveti e ai sicomori della pianura, Gio-Hash alle cantine dell'olio, Citrai da Sharon al grosso bestiame che paceva a Sharon, Shafat figliolo di Adlai al grosso bestiame delle valli, Obili-Shmaelita ai cammelli, Gedadea da Haramot agli asini, Jasilo-Agarita al minuto bestiame. Tutti questi erano amministratori dei beni del re Davide. E Jonathan, seo di Davide, era consigliere, uomo intelligente e istruito, Jeiel figliolo di Achmoni, stava presso i figlioli del re, Ahitophel era consigliere del re, Uschal, l'archita, era amico del re. Dopo Ahitophel furono consiglieri Gioiada, figliolo di Benaia, e Abiatar, il capo dell'esercito del re. Era Joab. Primo libro delle Cronache, capitolo ventottesimo Or Davide convocò a Gerusalemme tutti i capi di Israele, i capi delle tribù, i capi delle divisioni al servizio del re, i capi di migliaia, i capi di centinaia, gli amministratori di tutti i beni e del bestiame appartenenti al re e ai suoi figlioli, insieme con gli ufficiali di corte, con gli uomini prodi e tutti i valorosi. Poi Davide, alzandosi e stando in piedi, disse, Ascoltatemi, fratelli miei e popolo mio. Io avevo in cuore di edificare una casa di riposo per l'arca del patto dell'Eterno, e per lo sgabello dei suoi piedi, del nostro Dio, e avevo fatto dei preparativi per la fabbrica. Ma Dio mi disse, Tu non edificherai una casa al mio nome, perché sei uomo di guerra e hai sparso del sangue. L'Eterno, l'Idio di Israele, ha scelto me in tutta la casa di mio padre, perché io fossi re di Israele, in perpetuo, poiché gli ha scelto Giuda come principe, e nella casa di Giuda la casa di mio padre, e tra i figlioli di mio padre gli è piaciuto di far me re di tutto Israele, e fra tutti i miei figlioli, già che l'Eterno mi ha dato molti figlioli, Egli ha scelto il mio figliolo Salomone, perché segga sul trono dell'Eterno, che regna sopra Israele. Egli mi ha detto, Salomone, tuo figliolo, sarà questi che edificherà la mia casa e i miei cortili, poiché io l'ho scelto per mio figliolo, e io gli sarò padre, e stabilirò saldamente il suo regno in perpetuo, ed Egli sarà perseverante nella pratica dei miei comandamenti, dei miei precetti, come oggi. Or dunque, in presenza di tutto Israele, dell'Assemblea dell'Eterno, e dinnanzi al nostro Dio che ci ascolta, io vi esorto ad osservare e a prendere a cuore tutti i comandamenti dell'Eterno che è vostro Dio, affinché possiate rimanere in possesso di questo buon paese, e lasciarlo in eredità ai vostri figlioli dopo di voi in perpetuo. E tu, Salomone, figliolo mio, riconosci l'iddio di tuo padre, e servilo con cuore integro e con l'animo volenteroso, poiché l'Eterno scruta tutti i cuori e penetra in tutti i disegni e in tutti i pensieri. Se tu lo cerchi, Egli si lascerà trovare da te, ma se lo abbandoni, Egli ti ricetterà in perpetuo. Considera ora che l'Eterno ha scelto te per edificare una casa che serva da santuario. Sii forte e mettiti all'opera. Allora Davide diede a Salomone, suo figliolo, il piano del portico del Tempio e degli edifici, delle stanze e dei tesori, delle stanze superiori, delle camere interne, del luogo per il propiziatorio, e il piano di tutto quello che aveva in mente relativamente ai cortili della casa dell'Eterno e tutte le camere dell'intorno ai tesori della casa di Dio e ai tesori delle cosse consacrate, alle classi dei sacerdoti e delle viti, a tutto quello che concerneva il servizio della casa dell'Eterno e a tutti gli utensili che dovevano servire alla casa dell'Eterno. L'idea del modello degli utensili d'oro, con relativo peso d'oro per tutti gli utensili d'ogni specie di servizi, e il modello di tutti gli utensili d'argento, con relativo peso d'argento per tutti gli utensili d'ogni specie di servizi. Gli diede l'indicazione del peso dei candelabri d'oro e delle loro lampade d'oro, col peso di ogni candelabro e delle sue lampade, e l'indicazione del peso dei candelabri d'argento col peso di ogni candelabro e delle sue lampade, secondo l'uso al quale ogni candelabro era destinato. Gli diede l'indicazione del peso dell'oro necessario per ognuna delle tavole e dei panni della presentazione, e del peso dell'argento per le tavole d'argento. Gli dede ugualmente l'indicazione del peso dell'oro puro per i forchettoni, per i bacini, per i calici, e l'indicazione del peso dell'oro per ciascuna delle coppe d'oro, e del peso dell'argento per ciascuna delle coppe d'argento, e l'indicazione del peso necessario d'oro purificato per l'altare dei profumi, e il modello del carro, ossia dei cherubini d'oro, che scendevano le ali e coprivano l'arca del patto dell'Eterno. Tutto questo, disse Davide, tutto il piano da eseguire te lo do per iscritto, giacché la mano dell'Eterno che è stata sopra me, mi ha dato l'intelligenza necessaria. Davide disse ancora a Salomone suo figliuolo, sii forte, fatti animo e mettiti all'opera. Ed ecco le classi dei sacerdoti e dei leviti per tutto il servizio della casa di Dio, e tu hai presso di te per ogni lavoro ogni sorta di uomini di buona volontà e abili ad ogni specie di servizio. E i capi e tutto il popolo sono pronti ad eseguire tutti i tuoi comandi. Primo libro delle Cronache, capitolo ventinovesimo Poi il re Davide disse a tutta la radunanza, Salomone mio figliuolo, il solo che Dio abbia scelto, è ancora giovane e in tenera età, e l'opera è grande, poiché questo palazzo non è destinato a un uomo, ma a Dio all'Eterno. Ora, io ho impiegato tutte le mie forze a preparare per la casa del mio Dio dell'oro per ciò che deve essere d'oro, dell'argento per ciò che deve essere d'argento, del rame per ciò che deve essere di rame, del ferro per ciò che deve essere di ferro, e del legname per ciò che deve essere di legno, delle pietre donici, delle pietre da incastonare, delle pietre brillanti e di colori diversi, d'ogni specie di pietre preziose e del marmo bianco in gran quantità. Di più, per l'affezione che porto alla casa del mio Dio, siccome io possego in proprio un tesoro d'oro e d'argento, io lo do alla casa del mio Dio, oltre a tutto quello che ho preparato per la casa del santuario, e cioè tre mila talenti d'oro, d'oro d'offin, e sette mila talenti d'argento purissimo per rivestirne le pareti delle sale. L'oro per ciò che deve essere d'oro, l'argento per ciò che deve essere d'argento, e per tutti i lavori da eseguirsi dagli artefici, chi è proposto a fare oggi qualche offerta all'Eterno? Allora i capi delle case patriarcali, i capi delle tribù di Israele, i capi delle migliaia, delle centinaia degli amministratori degli affari del re, fescero delle offerte volontarie, e diedero per il servizio della casa di Dio cinquemila talenti d'oro, diecimila d'arche, diecimila talenti d'argento, dieciottomila talenti di rame, centomila talenti di ferro. Quelli che possedevano delle pietre preziose, le consegnarono a Jehiel, i Gersionita, perché fossero riposte nel tesoro della casa dell'Eterno. Il popolo si rallegrò di quelle loro offerte volontarie, perché erano fatte quelle offerte all'Eterno con tutto il cuore, e anche il re Davide se ne rallegrò grandemente. Davide benedisse l'Eterno in presenza di tutta la radunanza e disse, Benedetto sii tu, Eterno Dio del Padre nostro Israele, di secolo in secolo. A te, o Eterno, la grandezza e la potenza, la gloria e lo splendore e la maestà, poiché tutto quello che sta in cielo e sulla terra è tuo. A te, o Eterno, il regno, a te che ti innalzi come sovrano di sopra di tutte le cose. Da te vengono la ricchezza e la gloria, tu signoreggi su tutto, in tua mano sono la forza e la potenza, sta in tuo potere di far grande e render forte ogni cosa. Ordunque, o Dio nostro, noi ti rendiamo grazie e celebriamo il tuo nome glorioso, poiché chi sono io e chi è il mio popolo che siamo in grado di offrirti volenteriosamente cotanto, già che tutto viene da te, e noi ti abbiamo dato quello che dalla tua mano abbiamo ricevuto. Noi siamo dinanzi a te dei forestieri e dei pellegrini come furono tutti i nostri padri, i nostri giorni sulla terra sono come l'ombra, non vè speranza. O Eterno, Dio nostro, tutta questa abbondanza di cose che abbiamo preparata per edificare una casa a te, al tuo santo nome, viene dalla tua mano e tutto ti appartiene. Io so, o mio Dio, che tu scruti il cuore e ti compiasci della rettitudine, perciò nella rettitudine del cuore mio t'ho fatte tutte queste offerte volontarie e ho veduto ora con gioia il tuo popolo che si trova qui, farti volenterosamente le offerte sue. O Eterno, O Dio d'Abramo, d'Isacco, d'Israele e nostri padri, mantieni in perpetuo nel cuore del tuo popolo queste disposizioni, questi pensieri, e rendi saldo il suo cuore in te, e dà a Salomone mio figliuolo un cuore integro affinché egli osservi i tuoi comandamenti, i tuoi precetti e le tue leggi, affinché eseguisca tutti questi miei piani e istruisca il popolo e costruisca il palazzo per il quale lo fatti preparare. Poi Davide disse a tutta la radunanza, Or benedite l'Eterno il vostro Dio, e tutta la radunanza benedì l'Eterno il Dio dei loro padri, e si inchinarono e si prostrarono dinanzi all'Eterno e al Re. E il giorno seguente immolarono delle vittime in onore dell'Eterno e gli offrirono degli olocausti, mille giovenchi, mille montoni, mille agnelli con le relative libazioni e altri sacrifici in gran numero per tutto Israele. E mangiarono e bevero in quel giorno nel cospetto dell'Eterno e con gran gioia proclamarono Re per la seconda volta Salomone figliolo di Davide, e lo unsero consacrandolo all'Eterno come conduttore del popolo, e unsero Tzadò come sacerdote. Salomone si assise dunque sul trono dell'Eterno come Re invece di Davide suo padre, prosperò, e tutto Israele gli ubbidì. E tutti i capi, gli uomini prodi e anche i figlioli del Re Davide si sottomisero al Re Salomone, e l'Eterno innalzò sommamente Salomone nel cospetto di tutto Israele e gli diede un regale splendore quale nessun Re prima di Lui ebbe mai in Israele. Davide figliolo di Sai regnò su tutto Israele. Il tempo che regnò sopra Israele fu quarant'anni, a Ebrom regnò sette anni, e a Gerusalemme trentatré. Morì in prospera vecchiezza, saggio di giorni, di ricchezze e di gloria. E Salomone, suo figliolo, regnò in luogo suo. Or le azioni di Davide, le prime e le ultime, sono scritte nel libro di Samuel il Veggente, nel libro di Nathan il Profeta, e nel libro di Gad il Veggente, con tutta la storia del suo regno, delle sue gesta, di quel che avvenne ai suoi tempi, tanto in Israele quanto in tutti i regni degli altri paesi. Grazie a tutti.